Filippo Maria Tripolone nasce a Messina il 28 dicembre del 1962 ma trascorre la sua infanzia a Massa Carrara dove si trasferisce con i suoi amati genitori Babbo Pippo, la mamma Ada e i due fratelli Gaetano ora sposato con due figli e Massimiliano. Nel 1972 si trasferisce a Milano con la famiglia, fatica ad adattarsi ma Filippo ha un bel carattere estroverso e questo gli consente di circondarsi dell'affetto di tanti amici. Coltiva la passione per la musica suonando uno strumento della quale è molto legato la chitarra classica, successivamente accentua la sua passione per la speleologia e frequenta il centro CAI della città. A 18 anni dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico lavora come aiutante tecnico all'Ipsia ma è anche l'età in cui incontra il suo primo amore che gli spalanca crudelmente la soglia del suo declino psicologico. La prima grande delusione d'amore, la ragazza sbagliata sotto ogni prospetto, da allora a causa di una forte forma di depressione, inizia il suo travaglio tra ospedali e medici specializzati in materia. Dopo anni interminabili e soffertissimi, ombra luce, in un colloquio da un psichiatra con cui è in terapia, gli si riferisce con distacco glaciale che per la sua condizione avanzata la terapia non gli avrebbe più giovato. Un brivido percorre Filippo lungo la schiena e gli occhi umidi indugiando in una notte senza fine. È incoraggiato, spronato, rassicurato dai suoi cari, dalla sua angosciata mamma Ada, ma Filippo non dimentica più quelle parole e mette a giacere la speranza in un'angusta dimora del suo essere. A 27 anni insegna tecnica in una scuola. Nell'autunno del 1989 Filippo incontra Elena e dopo qualche tempo capisce di esserne innamorato. Il 14 febbraio del 1991, festa di San Valentino, Filippo e Elena si uniscono in matrimonio. Filippo da tempo nutre una grande ambizione, quella di aiutare il prossimo a prendere un circolo culturale ed accogliere amici persone psicologicamente fragili e trascorrere attimi di serenità in compagnia. L'avrebbe chiamato la lanterna bianca, ma il suo grande cuore non vide mai avverarsi questo sogno. Il 31 gennaio del 1993 nasce Silvia, chiamata da Filippo Pupilla. Le condizioni di Filippo si aggravano ulteriormente e il 23 gennaio del 1995 decide di lasciarsi andare, giustiziandosi nella sua stessa abitazione. Ma Filippo ha varcato questa soglia terrena lasciando ai suoi cari un'eredità unica, i suoi diari e le sue poesie. La sensibilità d'animo, la profondità dei suoi sentimenti, il suo immenso desiderio di libertà e di giustizia sono tutti racchiusi nelle pagine dei suoi scritti. Ora egli definitivamente riposa nella cappella di famiglia Motta Camastra. Una poesia molto bella che mi ha toccato, si chiama Nebbia. Nebbia sulla mia strada. Io e te. Io fumavo e tu scrivevi. Tutte e due senza parole. A guardare. Cercare qualcosa ancora da scoprire. La nebbia come il vuoto che ci circonda mentre si cerca sempre di intravedere cosa vi è dopo il buio. In questa sera senza stelle. In questa sera senza luna. Il buio, avvolto dal misterioso manto, sembra non avere fine. È impossibile trovare un luogo dove gli spazi della mia realtà scivolassero implacabili nella mia coscienza. Il ghigno diabolico di quella faccia, mia etitrice, giocava alle mie spalle con il tempo e con lo spazio. E fu così che cercai la vita oltre il buio. La mamma Ada, finché Filippo continui a vivere nella memoria di quanti lo hanno amato, nel 1996 fonda il primo circolo culturale, dandogli il nome La Lanterna Bianca. Lo scopo del concorso diaristico, fin dal suo avvio, ha due obiettivi. Tenere viva la memoria di Filippo attraverso uno dei suoi hobby preferiti, la scrittura. L'altro contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle malattie più diffuse, che purtroppo invalida e annienta mentalmente e fisicamente, lasciando le famiglie nello sconforto e nella solitudine. Ad essa possono rivolgersi tutti coloro che vivono in famiglia questo tipo di dramma. La malattia mentale è infatti una patologia sempre più diffusa, ma spesso disconosciuta. Arriva in un modo subdolo e le famiglie colpite si trovano sole a combattere una battaglia impari. Primaria importanza hanno i medici e i centri specializzati. Prima di curare bisogna ascoltare, poi capire, interagire e alla fine consigliare. La vita di Filippo ne è un esempio. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 22esima edizione di questo premio diaristico Lanterna Bianca. Quindi il saluto veramente a tutti voi, perché ogni volta che ci ritroviamo qui, ci ritroviamo in questa famiglia o in questa familiarità così come voleva Filippo. E quindi chi continua e vuole parlare con la sua voce, continua a fare questo. E io lo voglio fare direttamente senza distaccarmi da quello che avete ascoltato, traendo dalle sue parole, perché i suoi diari sono la vita. Lui stesso lo diceva. E io voglio continuare dal momento in cui lui ha deciso di mollare. Ecco, noi siamo qui a dire sempre non mollare mai, tu ce la devi fare, non ti devi abbattere. E' facile a volte dire questo. Bisogna vivere all'interno quello che c'è. E un giudizio a volte è azzardato. Noi dobbiamo essere sempre quelli entusiasti, amanti della vita, della vitalità e quindi dobbiamo dare uno spunto. Ma a volte chi c'è dentro, inserito, fa più fatica ad uscirne fuori. E a volte non so perché vuole dire basta. E questo l'abbiamo visto in un futuro che lui pensava. Pensava in un futuro e diceva Sì, è il futuro che dà forza e credenza al buio che lasciamo alle spalle. E' qui che si decide ciò che siamo. Perché? Perché il passato è un film senza ritorno, che guardiamo nella notte per valutarne l'assenza che altrimenti, distratti dalla luce del giorno, essa si perderebbe nel presente. Il futuro è come un libro non ancora sfogliato di cui non conosciamo nell'inizio e nemmeno la fine. E allora Filippo lentamente si discosta da quella vita che ha tanto amato. La natura, la vita, la famiglia, gli affetti, gli animali, la qualsiasi cosa che apparteneva a questo mondo per lui era vita, era gioia. Non è riuscito a superare tanti problemi familiari. Oppure era già cosciente. Non possiamo nemmeno giudicare. Perché lui scrive e già è proiettato in quell'altro mondo. E lui dice Io credo di aver scritto tutto di me stesso. E l'ho scritto anche a me stesso. Forse più del superfluo. Ho più volte escluso il mondo che mi circonda. Perché sentivo e sento che esso non mi appartiene più. Ho amato tanto la vita. Ma ora voglio starne al di fuori. Perché ne voglio abbracciare un'altra. Il dolore fisico umano non so fino a quale soglia possa essere tollerato. Ma quando si accomuna con quello interiore esso distrugge il meglio di te stesso. Il tuo essere non cammina più. Strascica come piombo. E i pensieri ti si sfracellano al suolo in minuscoli pulviscoli d'ombra. No. Non ho più paura della morte. Perché sarà lei a riconciliarmi con la vita a mani giunti. Questo è Filippo. E prima di... Perché in un parentese ed altra con questa edizione che stiamo iniziando io naturalmente do la parola agli ospiti ma poi a chi è qui la mamma la mamma di tutti la mamma per eccellenza ma stasera vogliamo dare tanto spazio a voi presenti che siete venuti perché grazie ai vostri scritti al racconto della vostra vita ci date quelle riflessioni alla nostra vita che spesso insomma è deviata da tante cose che avvengono nel corso della giornata frenetica ormai per tutti e allo stesso tempo attraverso le nostre riflessioni voi che avete scritto assaporate qualcosa di diverso rispetto a quello al messaggio che volevate dare che è tanto tanto importante allora la lanterna la lanterna bianca chiamata così per volere proprio di Filippo poi lanterna è già la luce bianca perché dà luminosità uno che si distacca dalla vita ma allo stesso tempo pensa a qualcosa che resta lì ad illuminare che non può essere nascosto e allora siamo nel 96 e questa nasce ed è fondamentale è un circolo culturale importantissimo nel 98 abbiamo direttamente uno statuto speciale e abbiamo questa lanterna bianca che che ecco le sedi di Milano e anche quella qua perché le radici le radici sono nella valle dell'Alcantara giardine Naxos la seconda sede ufficiale della lanterna bianca ma qua quest'angolo di paradiso fra virgolette tanto amato non solo da Filippo ma anche da papà Giuseppe che ho avuto il piacere di conoscere e amato anche da Tanino e da Massimiliano sono i due fratelli che qui assieme alla nostra Donatella ecco cercano di creare un angolino di paradiso proprio qui a Motta Camastra ed è a Motta Camastra che fortemente sia papà Giuseppe sia Mammada hanno voluto che questa questa premiazione ecco si facesse e questo si è realizzato siamo alla ventiduesima edizione quindi col tempo parleremo anche della giuria che io ringrazio già anticipatamente sono qui tutti presenti da Maria Lilia Papa abbiamo a Pina Calabro e in fondo vedo il presidente professore Angelo Manitta Enza Conti a cui facciamo un applauso forte non è facile giudicare i diari perché c'è un lavoro in mane e addentrarsi nella vita degli altri attraverso un diario è davvero difficoltoso ma quando c'è la professionalità ecco il grande sapere questo diventa tutto semplice quindi grazie a tutti spero che sia una serata serena dove tutti possiamo apprendere qualcosa e possiamo tornare a casa con qualcosa in più rispetto a quello a tutti i desideri e le idee che abbiamo avuto prima di venire qua io prima di dare la parola data vorrei solo ricordarvi che per chi volesse voi sapete che alla fine ci sarà una pericena quindi vi potete rivolgere anche a Cristina per chiunque volesse rimanere e quindi dare l'adesione eccetera eccola lì Cristina vi ringrazio tanto e adesso fa i saluti di casa chi è il padrone del territorio del territorio il padrone del territorio che è il sindaco di Motta Camastra il nostro Carmelo Brancato che salutiamo e applaudiamo perché è anche che riduce da una da una gioia che quelli di Motta vogliono che per il secondo mandato è ancora sindaco di Motta Camastra e con piacere do il microfono buonasera a tutti questo è il sesto anno che io partecipo a questo evento fortemente voluto la signorata e stasera qualche problema lo spiego dopo però ci tengo a essere presente perché è una cosa molto importante per il nostro territorio innanzitutto voglio volgere i saluti a tutti voi da parte della ministrazione comunale e da me sindaco eletto da poco il secondo mandato non è un fatto di politica è un fatto di politica sociale e quindi come dicevo prima io oltre ai saluti ci tengo a dire che sono presente anche se ho degli impegni familiari mio papà oggi fa il compleanno e altri amici e quindi mi sono diciamo liberato oppure un battesimo perché la mia presenza è una presenza importante perché come forse qualcuno magari non sa a Motta c'è la biblioteca comunale dove sono custoditi tutti i diari che la signorata dona al comune noi con la presente amministrazione abbiamo cercato di dare funziona da questa biblioteca e con l'attuale stiamo cercando di ripartire con il servizio civile abbiamo diciamo catalogato tutto abbiamo registro finalmente e se possono trovare abbiamo censito circa 3000 libri una cosa del genere oltre i diari quindi nelle prossime settimane faremo anche su facebook lanceremo un avviso quando la biblioteca sarà aperta è chiaro che gestire la cosa pubblica non è facile perché ci vuole il personale poi ci sono i sindacati e quindi non è facile la biblioteca se si apre deve essere custodita da persone che sanno dove mettere le mani e quindi questo è un primo passaggio il secondo passaggio è quello di benvenuto ripeto a tutti voi compaesani persone che vengono dai comuni vicini o dall'estero presumo pure all'amico mio Orlando sindaco di Castelmola che abbiamo dato la sua presenza lui è sempre presente in tutte le manifestazioni però questa è la prima volta che viene mi pare a motta questo che c'è la processione che c'è l'evento quindi purtroppo non è facile nel mese di luglio trovare la disponibilità io l'ho trovata perché è chiaro che deve essere presente e cosa voglio dire voglio dire che questi eventi si svolgivano in alberghi una volta al giardino una volta non so dove io gli ho detto alla signorata mammata come la vogliamo definire gli ho detto facciamola a casa tua difatti il primo anno mi pare stato tre anni fa se non sbaglio o quattro anni fa c'era l'abbonato di suo marito che io conoscevo personalmente Giuseppe Tripolone ed era seduto in quei banchi e questa è una cosa perché è inutile che giriamo alberghi e ristoranti qua non è un fatto di andare a pranzo o a cena qua è un fatto sociale culturale che ci onora come comune di Montagamasso perché questa associazione come tu Orlando hai capito presumo tu sei una persona intelligente non ti spendi in giro ha una sede a Milano e una a Motta Camastra Milano ha avuto anche delle riconoscenze non è una cosa per giocare tant'è che la signora Ada usa il telefono come call center nel senso che la chiamano giorno e notte persone che sono in difficoltà e che si vogliono a lei perché sa come interagire sa consigliare quindi non solo ha avuto quella triste storia del figlio ma ancora oggi continua nonostante l'età a perseguitare questa diciamo questa attività a perseguitare questa attività nell'interesse della comunità non è che lo fa perché è un interesse economico è un'associazione onlus e quindi io Ada ti posso dire sempre grazie purtroppo gli anni passano mi dispiace questa sera non c'è la professoressa di Letoianne come si chiama Campagna la persona che per 21 anni ha seguito se non sbaglio questa associazione ringrazio consigliere Livio per la presenza gli assessori donne Daniele Giardino e Maria Angelo Orlando ma anche Maria Angelo negli anni precedenti è stata sempre presente a questo evento anzi mi sollecitavo stasera purtroppo abbiamo fatto cattiva figura con i vigili perché sono tutti in malattia e non gli puoi fare niente non è che gli puoi dire devi rienciare una volta si poteva fare oggi o no hanno la scusa per essere malati perché sanno che c'è l'evento e te ti metti a scrivere il tempo che gli gira la carta passa già lo posso fare pure il vigile non è che sia il problema anzi la signorata si è organizzata con la macchina grazie a Lorenzo e quindi ha risolto questo problema a sue spese con questo cosa posso dire posso dire una buona permanenza nel mio comune qua siamo nella contrada San Cataldo sul confine con Graniti sulla strada 185 a un chilometro a un chilometro e mezzo circa dalle gole dell'Alcantara quindi un posto bellissimo come vedete la ferrovia se Dio vuole dovrebbe essere riattivata questo è un fatto importante anche per il turismo turismo culturale che possa portare turisti nella valle non solo tramite la strada ma anche con questo treno io sono perplesso però come vedo come si vede pare che le cose stanno andando nel verso giusto quindi fuori qualche anno se Dio vuole vorremmo avere questa tratta anche di tipo turistica è importante perché io mi ricordo ero bambino quando passavano i treni a vapore era qualcosa di eccezionale qualcosa da cartoline da quadri c'è lo sfondo abbiamo il ponte 13 archi che noi abbiamo illuminato con la bandiera d'Italia che neanche le ferrovie conoscevano gli ho mandato le foto io ma dice noi non lo savavamo che c'era questo ponte un po' dall'epoca di Mussolini fatto tutto in pietra senza cemento armato è ancora lì presente la valle è tutta bella però l'associazione fa parte anche della valle e quindi noi di quello che possiamo fare una volta leghiamo la strada una volta cerchiamo di venire in conto perché è chiaro che un paesino di 800 abitanti con due frazioni non è facile gestire ci sono chilometri chilometri di acqua d'otto strade Orlando è un martire delle strade cosa che posso dire posso dire grazie alla vostra presenza buona permanenza buona prosecuzione io me ne scuso pubblicamente per due motivi la prima non ho portato la fascia perché sono di come dicevo di compleanni di combattere no non c'è bisogno io per il mio comune non l'ho portato me ne scuso lui l'ha portato dico cosa posso dire mi scuso perché mi trovo a sentare alle sette perché devo andare a messa che è giusto se uno è invitato a un batteso ci devo andare con questo io ti auguro sempre che possiamo fare di meglio anche nei prossimi anni mi scuso per quello che non abbiamo potuto fare però non è stata un fatto che uno una cosa non lo vuole fare certe volte non ci si arriva per tanti motivi non è una cosa perché ce l'abbiamo l'antenna bianca a noi fa solo piacere e quindi buona prosecuzione grazie quindi alla giuria che sarà presente grazie al professore Motta che è stato io da sei anni che lo vedo l'ho invitato già a Motta veniamo a trovare la giuria Inese Calabro professore Manitta la moglie Enza Conti e la dottoressa Maria Lidia Papa vi ringrazio pure a voi perché come diceva Lino non è facile leggere i diari il premio non è un premio che sarà che è più bello che è più brutto che è più bravo è un premio di solidarietà però è chiaro che la giuria si assuma anche una responsabilità nell'interpretazione di quello che ci si scrive nei libri non è l'impaginazione giusto professore Motta è tutto quello che c'è all'interno lei di queste libri sa quante ne ha lette nella sua vita con questo vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione grazie grazie sindaco ed io immediatamente passo la parola alla presidente dell'associazione Onlus sulla lanterna bianca fondata in memoria di Filippo Maria Tripolone la nostra Ada la nostra Ada Tripolone mamma Ada la chiamiamo tutti così perché dire mamma no no perché dire mamma significa che le labbra si baciano per ben due volte e quindi è importante mamma Ada grazie grazie mille la mia clarissima diciamo Lina che è il mio braccio destro in tutto grazie a tutti i presenti e proseguiamo la serata diciamo spero serenamente datemi il coraggio perché non è che ne ho per adesso tanto ok ormai mi conoscete tutti sono Ada Tripolone e la lanterna è stata fondata in memoria di Filippo Maria Tripolone che ci ha lasciati a sole 32 anni a causa della maledetta depressione credo sia inutile dire quanto egli mi manchi grazie all'affetto dei miei cari ma principalmente del mio amato sposo che adesso mi protegge insieme a Filippo da lassù che sono riuscita a sollevarmi dal baratro cui ero caduta ciò che succede a queste persone non è colpa loro né dei genitori non è colpa di nessuno questo lo dirò all'infinita tutte quelle persone che vivono in famiglia questo tipo di dramma poiché il disturbo mentale arriva in maniera subdola all'improvviso mandando in tilt tutta la famiglia non serve a nulla darsi le colpe l'un l'altro l'idea di colpa produce soltanto sofferenza ma non aiuta essi hanno bisogno di essere circondati da stabilità e benessere emozionale per sentirsi meglio e per poter attingere confrontarsi e specchiarsi posso assicurare che questo male esiste in tutte le parti del mondo senza alcuna distinzione di ricchi o poveri sud o nord e nessuno è immune la sua scomparsa mi ha sollecitato l'attenzione della sofferenza psicologica e da quel giorno il mio telefono è diventato un telefono amico attivo 24 ore su 24 ascoltando a volte urla di dolore di disperazione e a volte la voce fiocca di chi non ce la fa più vorrei dire a tutti coloro che si mi ascoltano che oggi anche se in alcuni casi non si guarisce definitivamente c'è la possibilità di imparare e convivere con questa sofferenza che non è peggiore di tante altre malattie bisogna credere nelle cure oggi la farmacologia ha fatto passi da giganti raggiunto un traguardo importante ecco l'importanza dei servizi è vero in questi 45 anni dalla legge basaglia il 13 maggio 1978 data in cui sono stati chiusi i manicomi sono cresciuti pur tra tanti affanni e tanti problemi ma vi è ancora moltissimo da fare per questo assieme alle associazioni di familiari ci prodighiamo mettendo in luce questo grave problema che affligge l'umanità appellandoci alle autorità affinché collaborino a questo problema ma noi non smetteremo di lottare ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti vi chiederete come tutti noi possiamo contribuire ad aiutare chi è affetto da questo disagio prima di tutto non pensarlo come un diverso perché egli è solo più fragile più sensibile non meno intelligente di qualunque altra persona e poi facendo loro dono di una semplice stretta di mano un saluto affettuoso un sorriso adesso il perché di questo concorso diaristico Filippo come compagno di viaggio ha avuto un diario ed inoltre perché è un importante mezzo terapeutico quale momento liberatorio delle proprie angosce e non solo c'è chi scrive per sfogarsi chi per riflettere chi per esternare le proprie gioie ogni diario ha un valore importante perché andrà a far parte dell'archivio diaristico che verranno perennemente costuditi presso la biblioteca del comune di Motta Camastra l'organizzazione ha impegnato sempre più la mia persona e sono andata avanti con immensa modestia e con le pecche immancabili i cui sforzi sono andati oltre le stesse capacità senza nessuna pretesa di alcun genere poiché i miei obiettivi sono molto particolari a questo punto è ora di tirare le somme di quale sia stato il significato della mia esistenza primo far ricordare Filippo e in questo credo di esserci riuscita secondo cerco di aiutare gli sfortunati come lui e posso dire che parecchi miei interventi sono stati importanti con credi ed in mezzo aiuto terzo stimolare la ricerca scientifica si è fatto molto in questi ultimi anni ma la strada è ancora lunga spero di poter ancora continuare finché di ora alla società ho dato il mio piccolo contributo e di aver guadagnato e di essermi guadagnato scusa e di essermi guadagnato un attestante di stima che mi spinge sempre più a continuare quarto abbattere lo stigma non è facile credo sia ancora lunga la strada ma non bisogna mollare chiedo aiuto a tutti dal semplice cittadino alle autorità io non smetterò di lottare per le famiglie che vivono questo perché le famiglie che vivono questo dramma è un dramma nel dramma il dolore più grande per me è l'impotenza non accetto i fallimenti non mi arrendo facilmente mi sono sempre messa in gioco e mai risparmiata neanche davanti ai periodi bui ho abbracciato la sofferenza come una mamma fa e finché non raggiungo l'obiettivo non mi fermo solo così mi sento appagata mi piace pensare che ognuno di voi stasera uscendo da qui sia cambiato qualcosa nei vostri cuori di cui riflettere e migliorare per questo la lanterna di Filippo resterà sempre accesa naturalmente dentro c'è tutto l'affetto della mamma c'è il ricordo per questo figlio che non c'è più e mentre mamma Ada fa il saluto il saluto lo fa anche papà Giuseppe papà Giuseppe lo fa con queste parole l'alba timidamente si affacciava sul colle della speranza il rose o raggio illuminava la vita gracile ma desideroso di vita sgambettava il bimbo da poco nato tutto sorrideva alla vita anche se gli affanni non mancavano il suo cammino era un canto alla gioia ma ben presto nella sua primavera nuvole nere offuscarono i giorni rendendoli tristi e cupi poi venne la sera e subito notte e l'oscurità coprì anche i nostri cuori papà Giuseppe quindi il saluto l'abbiamo fatto non solo mamma Ada ma l'ha fatto anche papà Giuseppe e naturalmente io ringrazio tutti i sindaci presenti e il sindaco di Castelmola che l'ha salutato anche il sindaco di Motta Camastra il nostro Orlando Russo grazie per la presenza e tutti quelli che sicuramente ci raggiungeranno ha parlato anche la nostra Ada e adesso c'è la presenza di due importanti associazioni abbraccialo per me un'associazione di Capodorlando e i ragazzi del Pirandello di Messina io intanto chiamerei Antonella Algeri che è la presidente dell'associazione abbraccialo per me di Capodorlando che ci spiegherà anche la funzione e anche il coinvolgimento in questa manifestazione forse lì funziona sì sì buonasera a tutti che dire venendo qua non avevo fatto i conti con l'emozione sentire lo che ha scritto Filippo beh non posso parlare altrimenti mi metto a piangere scusate grazie grazie tranquilli passa ma sono sono le emozioni questa è la vita guai se non avessimo emozioni ecco lì essere noi stessi vorrei abbracciarla è una mamma è una grande mamma è una grande mamma scusate va beh facciamoci forze andiamo avanti allora mi chiamo Antonella Algeri nel 2016 quando dopo 40 anni di vita vissuta a Milano mi sono trasferita sono ritornata in Sicilia dove avevo vissuto i miei primi anni e dopo aver vissuto qualche anno anche in Piemonte di passaggio dove abitavano i miei genitori tornando in Sicilia l'obiettivo diciamo anche sul stimolo di mio figlio mio figlio ha un problema di salute mentale l'obiettivo era quello di come diceva anche la signora Ada di contribuire in qualche modo al superamento dei pregiudizi ed è lo stigma che ruota attorno alle malattie mentali quindi insieme ad altre mamme altri genitori abbiamo costituito l'associazione Abbraccialo per me perché questo nome è un po' particolare perché prende spunto da un film non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo che si chiama proprio Abbraccialo per me di Vittorio Sindoni il regista con la Stefania Rocca attrice e altri usciva nelle sale cinematografiche nell'aprile 2016 contemporaneamente noi stavamo appunto cercando di costituire l'associazione quindi siccome il film dopo averlo visto ci siamo resi conto che è un po' la storia di tutte le famiglie che hanno problemi che hanno i propri cari con problemi di salute mentale ci rappresenta perfettamente quindi abbiamo deciso di dare questo nome e il nostro motto è usciamo allo scoperto la malattia non è una colpa la malattia mentale non è una colpa nessuno sceglie di ammalarsi né di cosa ammalarsi è stata dura perché io personalmente mi sono ritrovata appunto in un paese che tra l'altro Capodorlando non è il mio paese di origine per cui non avevo conoscenze legami eccetera ma contemporaneamente mi ha dato modo di coinvolgere le persone perché io mi sono come dire sono uscita allo scoperto io per prima il motto dell'associazione parte proprio da lì uscire allo scoperto vuol dire ammettere che c'è un problema prenderne coscienza e dirlo tranquillamente perché ripeto non è e non deve essere una colpa abbiamo lavorato molto sul territorio anche collaborando con le scuole per i progetti di alternanza scuola lavoro abbiamo ampliato la base associativa nel senso che abbiamo soci anche in altre regioni d'Italia ma il passaggio più importante viene dopo quindi costituita l'associazione fatte una serie di attività eccetera abbiamo avuto un obiettivo ambizioso che è quello di creare una rete di associazioni di familiari perché sul territorio non soltanto siciliano ma anche nazionale esistono tante associazioni ognuna segue un suo percorso con degli obiettivi che più o meno possono anche essere simili ma un po' sfilacciati noi abbiamo cercato di mettere insieme una serie di associazioni e abbiamo creato nel 2021 quindi due anni fa una rete di familiari si chiama proprio famiglie in rete l'associazione è nata appunto come associazione di secondo livello perché raggruppa appunto associazione di familiari più familiari e pazienti persone singole è partita come associazione regionale e in due anni è diventata un'associazione nazionale con circa 600 soci sparsi in 16 regioni d'Italia quindi siamo un po' rappresentate un po' dappertutto cosa facciamo l'obiettivo è quello di contribuire al superamento dello stigma e questo come dicevamo prima ma anche cercare di portare avanti nei limiti del possibile quelle che sono migliorare quelle che sono le normative che riguardano l'ambito salute mentale collaborando laddove è possibile con le istituzioni a partire dalla scuola ma anche a livello regionale e anche a livello nazionale per esempio proprio i giorni scorsi abbiamo avuto un'audizione col tavolo tecnico nazionale sulla salute mentale tavolo tecnico costituito da poco ma dove ci sono soltanto i professionisti e non i familiari noi abbiamo chiesto un'audizione ci è stata accordata e probabilmente questa è una cosa ancora in itinere probabilmente andremo a far parte di un gruppo di lavoro specifico perché io sono convinta che all'interno degli organismi che trattano di salute mentale ci vogliono comunque le persone che hanno che vivono il problema perché danno una una conoscenza specifica da un'angolatura dove ovviamente un professionista magari non sempre può cogliere quell'aspetto quindi i familiari e le persone che hanno questi problemi sono importantissimi l'associazione appunto si chiama Famiglia in Rete vi invito chi ha voglia di visitare il sito abbiamo appena costruito il sito con grande dispeglio di fatica e di energie si chiama www.famigliainretesalutementale.it tutto attaccato senza punti in mezzo lì potrete vedere per esempio che abbiamo costituito dei gruppi tematici uno dei quali riguarda proprio la prevenzione del suicidio un tema molto molto pesante poi abbiamo il gruppo sui disturbi di personalità sull'ADHD una serie di gruppi tematici perché ogni diciamo un gruppo di persone porta avanti un tema specifico perché magari è coinvolto direttamente in prima persona cosa altro dirvi non voglio portarvi altro tempo ripeto l'emozione continua la ringrazio Ada di avere grazie mille grazie noi ci siamo sentite tante volte finalmente ci siamo conosciute grazie al presidente dell'associazione abbraccialo per me la parola adesso a Titti Mazza che è vicepresidente dell'associazione i ragazzi del Pirandello di Messina devo fare una precisazione sono i giovani del Pirandello non i ragazzi è un'associazione di promozione sociale intanto ringrazio veramente di cuore la signora Ada Tribolone che credo che sia una donna dalle grandi doti e oggigiorno è molto difficile perché è una società molto difficile trovare delle sensibilità che portano avanti degli obiettivi molto importanti detto questo ecco io mi presento innanzitutto come la madre di Riccardo credo che sia la cosa fondamentale e io non penso che nella vita le cose a volte accadono ma non le vogliamo neanche noi ci sono dei percorsi che devi che devi fare che vengono presentati e li devi percorrere così come penso che che forse Filippo abbia scelto ciascuno di noi boh chissà per essere qui ecco io avete citato Basaglia che io sono una una fan una studiosa del professore Basaglia perché attraverso mio figlio io mi sono chiesta ma chi vedono la malattia o la persona e allora la risposta che mi sono data è la maggior parte dei psichiatri vedono la malattia trascurando la persona come se quella persona cioè quella che ha dei disturbi fosse un oggetto e mi permetto di dire una cosa che sbaglierò ma la voglio dire da madre se il nostro caro Filippo non avesse trovato uno stupido medico e fosse stato invece una persona che si relazionava in modo giusto con lui dicendo che magari che le paure di Filippo erano anche le sue forse Filippo avrebbe riflettuto o forse no questo non lo sapremo mai e Basaglia diceva ma lei il professore che cosa vede la malattia o la persona no io vedo la persona e lei che cosa pensa della farmacologia io penso che la farmacologia in alcuni casi possa aiutare ma sia anche una tragedia per il malato perché vedete chi ha io la mia collega ha parlato di famiglie no io io ho sempre visto il ragazzo mi interesso di teatro scrivo delle sceneggiature il sindaco ha parlato di cultura la cultura è fondamentale ma non perché tu hai davanti un ragazzo diversamente abile quindi per te è un cretino tu ti devi mettere allo stesso livello quella persona che ha un disturbo mentale io quando scrivo una sceneggiatura i ragazzi del laboratorio teatrale testimone il professore Motta io parlo di Dante io ho parlato della follia del professore Basaglia loro lo conoscono ho parlato della scuola della scuola di ieri e della scuola di oggi ho parlato di Pirandello ho parlato ho scritto di D'Annunzio cioè cosa che questi ragazzi che è una compagnia teatrale di integrazione e vorrei anche precisare una cosa vede sintaco si parla tanto di cultura ok lei fa una cosa eccezionale ma lei deve studiare anche gli strumenti per avvicinare i giovani a come dire a visitare questo luogo non si può dire io faccio questo no bisogna studiare gli strumenti per arrivare con i ragazzi quando abbiamo fatto l'ultimo spettacolo che si intitola tutto è possibile basta crederci ed è un titolo per me essenziale perché se noi crediamo in quello che facciamo ci riusciamo ma siccome già siamo dei fragili perché questa società è una società liquida è una società di arida quindi dobbiamo lottare di più per portare avanti questi valori perché io la disabilità non la vedo non so se mi sono spiegata non la vedo io voglio vedere cosa tu mi puoi dire pur essendo diversamente abile quando io scrivo una sceneggiatura scrivo una sceneggiatura studiando il personaggio se mio figlio già di per sé come sua caratteristica è una persona chiusa in se stesso io non lo posso fare diventare ridicolo devo lavorare sul suo animo su quello che lui mi vuole dire e che non riesce a dirmi e quindi divento un personaggio questo anche voglio dire oggigiorno la psichiatria quando noi portiamo i nostri ragazzi dal psichiatra ma che cosa fa me lo dite che cosa fa prende ovviamente già un protocollo non dorme è agitato non fa questo ah vabbè allora signora le dia questo le dia questo le dia questo le dia questo arrivederci saluti ma non è che mi dice che cosa realmente può aiutare questo ragazzo allora io da madre ho deciso ho deciso faccio teatro però come dico io non ridicolizzando il ragazzo mi sono spiegata ma portando fuori la sua personalità che poi tanto è vero che quando vengono a vedere i nostri spettacoli non capiscono chi è abile e chi è diversamente abile è per me un successo premetto ho un regista il Fabio Larosa che è una persona eccezionale perché io posso scrivere quello che voglio ma poi ci deve essere chi è in comunione col mio pensiero e lui lavora io scrivo interpreta quello che voglio dire e lo realizza nel modo ovviamente sono stata fortunata in questo ma anche oltre a essere stata fortunata ho trovato o analizzato la persona che desideravo avere chiaramente è venuto fuori un percorso che spesso dà fastidio sapete perché se voi riuscite a dimostrare che quello che tu dici è sbagliato dai fastidio è proprio così quindi io non ho fatto un'associazione di famiglie perché francamente sì la famiglia è importante però ci sono famiglie che aiutano i figli e ci sono famiglie che invece li distruggono perché sono più fragili perché si vergognano perché non vogliono pagare perché tutto gli deve essere dovuto mi sono spiegata quindi è una realtà malsana è un contenitore melmoso la diversabilità o la malattia mentale quindi altra cosa quando si parla di integrazione ho la testa piena di queste non esiste l'integrazione non esiste sapete quando esiste l'integrazione quando il progetto è condiviso dalle belle parti cioè dagli abili e dai diversamente abili perché perché è un progetto che ha valore e arricchisce te e l'altro allora c'è la comunione questo avviene in teatro perché non ci fa la differenza cioè io non ti scrivo un ruolo dove tu fai lo scemo e quello fa l'intellettuale perché è normoabile non so se mi sono spiegata sono e ci sono delle regole da rispettare per l'uno e per l'altro hanno delle divise è vero professore Motta hanno delle divise fanno le prove sono tutti uguali hanno un regista ovviamente che li tratta allo stesso modo quindi loro non hanno difficoltà a dimostrare o non hanno paure perché si sentono accettati questo è fondamentale la società noi parliamo tanto credetemi parliamo tanto ma non è vero non sono accettati perché per essere accettati dovremmo dare loro una qualità di vita che non hanno i nostri figli camminano con le famiglie quando le famiglie sono intelligenti allora hanno la qualità di vita altrimenti no ci sono famiglie che tengono chiusi i figli sapete voi e perché sono animali eh? sono animali o quando per esempio si comportano in un certo modo la gente è quasi quasi eritrosa per dire ma stiamo scherzando e vi dico un'altra cosa forse dobbiamo stare molto attenti molto perché diventeranno diversamente abili i nostri figli che crediamo che siano normoabili in una società che è malsana e li sta rovinando questo deve essere per noi il cruccio che dobbiamo avere quindi aiutarli nella cultura ma come? eh dobbiamo lavorare noi quello che dicevo dobbiamo lavorare noi adulti perché i primi nemici di questa società sono gli adulti non i giovani quando abbiamo fatto lo spettacolo tutto è possibile basta crederci dovete credermi avevo una paura tremenda perché sono stata molto molto dura nei confronti della scuola di oggi rispetto alla scuola di un tempo ho quasi ridecolizzato il professore e avevo paura che i ragazzi non comprendessero però che cosa ho fatto ho studiato le musiche adatte ho studiato i dialoghi e ho dato loro la speranza di cambiare in che cosa ma perché dice ma lei ma perché la mia non è una sceneggiatura che mi viene da come puoi reagire tu mi viene da dentro dalla mia irrequetezza e allora siccome ho un fastidio metto scrivo il mio fastidio e allora penso e cerco di trovare una soluzione per i più deboli e vi devo dire che i ragazzi si sono alzati tutti in piedi avevano i telefonini con le luci e hanno applaudito questi ragazzi non me loro loro che hanno portato in scena la mia idea il regista che è stato bravissimo a realizzare il lavoro faccio tutto questo non lo so fino a che punto ma io spero che i nostri figli e dico veramente abbiano un domani una qualità di vita che dobbiamo far darli noi grazie 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 buonasera salutiamo il sindaco che motivi familiari lo allontanano da noi quindi ringraziamo le due presidenti forte una vice che fa tutte insomma parla a nome dell'associazione del presidente che non ha molta fiducia si vede che nel cammino del lavoro che ha fatto non ha incontrato ecco quella sinergia quella condivisione che oggi è necessaria per qualsiasi cosa vogliamo fare ma allo stesso tempo ecco è un po' insomma è stata è stata delusa dalla medicina dalla scuola da tante cose quindi ha conosciuto persone che magari le hanno permesso ecco di fare tale dichiarazione perché una dichiarazione non si fa se non si passa attraverso un'esperienza ma noi ci auguriamo ecco che non sempre sia così ecco che ci siano le opportunità la scuola i dirigenti o anche i docenti sensibili a tutte queste problematiche affinché aiutino perché si lavora con le associazioni un'associazione non deve nascere per sostituire lo stato che è parte essenziale che deve essere quello che si occupa di tutto e che è coadiuvato dalle associazioni per fare al meglio ciò che fa invece delle volte si demanda perché così ci si scarica allora siccome è stato chiamato il medico e anche cosa vuol dire psichiatriere e qui abbiamo il nostro Roberto Motte il nostro dottore che sempre qui e quindi già lavora conosce situazioni sicuramente non fa parte perché quando si parla magari si dice esclusi coloro che si conoscono però può dare può dare sicuramente una testimonianza forte anche in risposta a quelle tematiche fondamentali che magari per tutti sono state un po' di delusione ma teatro certo sempre lì certo esatto esatto perfetto esatto quindi in questo in questo teatro dove attori protagonisti e non si alternano adesso invece diamo la parola al nostro ormai facente parte della lanterna bianca il dottor Roberto Motta intervenire dopo dopo Ada dopo la signora Algeri dopo Titti è difficilissimo anche perché loro hanno espresso tutte le problematiche più importanti che riguardano il disagio mentale lo stigma la cura la riabilitazione le famiglie insomma tutti gli argomenti più importanti sono stati già detti benissimo da loro io sono molto contento perché stasera sono riuscito a mettere assieme queste tre grandi donne che rappresentano proprio questa voglia di di combattere lo stigma di aiutare chi ha il disagio mentale e sono tre mamme tre donne mi meraviglio sempre e vedo sempre meno uomini diciamo prendersi questo questo carico e sono tre persone che hanno fatto delle cose eccezionali cioè hanno prima di tutto ribaltato il concetto di stigma ognuno di loro ha portato fuori il problema della propria della malattia di essere diciamo coinvolti con la malattia di non nasconderla io ricordo facevo ho fatto sempre diciamo psicoeducazione cosiddetta psicoeducazione alle famiglie per esempio a Sant'Agata ho fatto un corso facevo questi corsi di informazione sulla salute mentale proprio dedicate alle famiglie mi ricordo che a un certo punto ho detto ai familiari per la prossima volta portatemi parlatemi dei vostri figli portatemi qualche cosa perché era solo diretto ai familiari la volta successiva mi ricordo che non venne nessuno perché evidentemente parlare del proprio familiare era terribile devastante era durissimo quindi superare questa questa poi abbiamo continuato comunque abbiamo continuato perché la volta successiva ancora mi hanno incominciato a portare le fotografie e mi parlavano dei figli attraverso le fotografie ma quindi superare questa avere la consapevolezza di avere questo problema superarlo per un genitore è un dolore è una cosa molto forte non è non è un passaggio semplice e purtroppo su questo anche i servizi si fanno molto poco molto molto poco nonostante sia riconosciuto come uno strumento importantissimo anche dall'organizzazione mondiale della sanità dai gruppi che in Italia si occupano della salute mentale è uno strumento fondamentale eppure viene pocusato quindi sono contento che ci siano queste tre associazioni rappresentate da tre donne e mi devo dire quanto sono anche originali per esempio con la signora Algeri la signora Algeri ha messo una rete ma anche una metodologia per esempio ci sono in rete i vari incontri sui tematici sulla malattia raccontati dai protagonisti e chi è che ha questo coraggio eppure sono venuti e li hanno raccontati è stato si possono vedere credo ancora sì sì eccetera sui podcast cioè ognuno racconta la sua esperienza ogni protagonista non mediata da uno psichiatra da uno psicologo ogni protagonista racconta la sua esperienza con i ragazzi del con i giovani del Pirandello sono rimasto sbalordito veramente lo dico ancora una volta ho detto un paio di giorni fa sbalordito perché questi ragazzi voglio dire fanno teatro ma io dal mio punto di vista dico sono dei ragazzi che hanno fatto delle cose eccezionali che non hanno nessun particolare problema di salute mentale diciamo comportamentale questo per noi diciamo psichiatri dovrebbe essere un motivo di grande riflessione cioè come funziona come funzioniamo bastano solo le medicine possiamo pensare ad altro e questo mi è venuto dallo stimolo di queste associazioni perché io credo che il mondo della salute mentale il mondo dei gli utilizzatori della salute mentale sta cambiando e anche in fondo questo diario che io ho incontrato i genitori a Palmi in questo convegno dei gruppi di mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto non era la prima volta che partecipavo un convegno del genere ho diverse volte fatto facilitatore dei gruppi di mutuo aiuto ma per esempio questa volta quello che mi ha stupito in una maniera sconvolgente è che in questo gruppo il 60% era una persona che aveva un figlio che si era suicidato una volta il suicidio si contava contavamo non era nemmeno un argomento che voglio dire si studiava in modo approfondito oggi è diventato un dramma un'epidemia e ovviamente con tutti i suoi misteri la poesia gli scritti del figlio della Tripolone sono evidenti cioè altro che depresso è un genio non so e anche da quello che ho capito di questo libro cioè ci troviamo di fronte a un fenomeno che sta tra la psichiatria e l'antropologia voglio dire è un fenomeno assolutamente fuori dai canoni precedenti che bisognerebbe affrontare in modo assolutamente nuovo perché non rispetta quello che diciamo la tipologia del passato è qualche cosa di diverso sono giovani che che vanno verso qualche altra cosa non sembra che vogliono solamente finire qualche cosa hanno questa attenzione verso qualche altra cosa quindi io vi lascio dicendo che ho grandissimo rispetto verso questo atteggiamento e verso queste persone ringrazio ancora Ada e voglio ricordare Vincenzo che è stato uno Vincenzo Consolo che è stato uno dei nostri dei nostri dei nostri ospiti graditissimi è stata una persona eccezionale grazie grazie dottore io vorrei semplicemente un piccolo saluto ecco lo ricordiamo anche così sia alla dottoressa Campagna per motivi di salute sia alla dottoressa Nocifora che non sappiamo c'era anche un intervento da parte loro le ringraziamo comunque perché collaborano sanno conoscono portano la loro esperienza e condividono ecco condividono questa rete che grazie a questo premio magari si sta creando perché annualmente ci si conosce quindi si comprende quante opportunità ci sono quando ci sentiamo sole dove dobbiamo avvicinarci con chi parlare cosa fare e poi cerchiamo di migliorare allora addentriamoci adesso in quello che è proprio il premio diaristico quindi la premiazione vogliamo dare voce a chi è stato protagonista di questa ventiduesima edizione e iniziamo immediatamente ecco di solito si fa partendo dagli ultimi e poi arrivando al primo ma voi sapete è stravolge un po' tutto ed è bello anche per questo perché non iniziare dai primi e poi andiamo a scendere a tutti gli altri allora per quanto riguarda il primo premio e prima anzi di passare perché non lo vorrei fare dopo anche perché ci addentra su come sono andati la giuria cosa ha fatto eccetera quindi l'abbiamo ricordata all'inizio l'ha ricordata anche il sindaco ma io adesso desidero qui accanto un po' il presidente della giuria il professore Angelo Manitta proprio perché ci fa addentrare in quello che è il premio e le premiazioni cosa c'è stato anche se poi attraverso le menzioni le ricezioni che hanno fatto i nostri giurati conosceremo anche l'altro gruppo va bene professore benvenuto ancora una volta presidente di un premio molto particolare quindi prima di passare proprio alla premiazione addentriamoci su quello che è stato cioè l'arrivo del materiale di quest'anno grazie io intanto mi scuso per essere arrivati in ritardo ma purtroppo una prolungata assenza nelle settimane scorse eccoci ha impegnati fino all'ultimo momento e io ringrazio ecco per avermi infidato qui in questa premiazione che ormai si svolge da diversi anni e ringrazio la signora Ada che da tanti anni mi onora di questo onere cioè quello di presiedere alla giuria di un premio che io definisco particolare particolare perché la tematica è particolare dal momento in cui si partecipa con un diario il diario chiaramente non è il diario come lo si può intendere nella maniera classica ma diario può essere la poesia può essere un racconto può essere la narrazione personale può essere anche un romanzo perché effettivamente ecco quando si scrive si esprime e si vuole esprimere se stessi se poi ci sono delle determinate problematiche ecco dietro questo diario è chiaro che il diario diventa molto molto più importante e da attenzionare in questo caso ecco io come presidente della giuria giustamente non mi addendro sotto l'aspetto né medico né psicologico né diciamo da altri punti di vista ma soltanto dal punto di vista scritturale dal punto di vista del contenuto a livello generale della forma ecco e chiaramente i giurati siamo invitati a valutare anche questo non solo questo perché è chiaro che anche il diario scritto male ma che racconta una vita è da premiare ecco e questa è la cosa importante e leggendo i numerosi diari che quest'anno ce n'erano parecchi ce n'erano parecchi ma ce n'erano molti molto interessanti in particolare due mi hanno mi hanno hanno testato la mia attenzione non che gli altri non fossero importanti perché avevano delle tematiche di un certo rilievo ma due in particolare perché ora non ricordo se era la mamma mi pare di questi due diari che raccontava appunto l'esperienza di cui già questa sera si è parlato ampiamente cioè parlavo di un'esperienza estremamente personale dei figli della propria anche giustamente nell'ambito dell'esperienza vissuta quotidianamente ma ecco io devo scindere chiaramente come presidente della giuria anche dal punto di vista letterario alcuni di questi diari erano scritti molto bene e non solo rappresentavano e descrivevano una tematica importante ma anche molto avvincente per il lettore ecco e questo diventa diciamo una cosa di un certo rilievo io vorrei fermarmi qui ecco per non denunciarmi più a lungo e vorrei ringraziare nuovamente per avermi infitato e soprattutto a far parte ecco ancora una volta di questa giuria speriamo che l'anno prossimo ancora si migliori come si è migliorato negli anni precedenti visto che quest'anno effettivamente c'è stato un miglioramento nel senso ecco non significa che gli altri anni sono peggiori ma significa che c'è stato un ampliamento ecco con la partecipazione anche di altre associazioni culturali quindi di altre esperienze che chiaramente hanno arricchito e sicuramente arricchiranno questo premio grazie grazie al presidente il professore Manitta e passiamo immediatamente alla premiazione abbiamo come primo premio un exequo ma iniziamo con Anna Rosa Geriani oltre accogliamola con un applauso questo è il diario io leggo semplicemente l'ultima parte perché poi devo fare quella domanda che la porto a parlare perché la parola è vostra non smetterò d'amare perché sono ferita ed il sangue si allunga in rosse pozze di denso dolore non smetterò d'amare perché la rabbia sale tutto scura nel buio cieco dell'odio infinito non smetterò d'amare non potrei neppure se lo volessi perché l'oggetto del mio amore è a me legato nel profondo e se lo abbandonassi perderei me stessa la nostra Ada ha scritto così la motivazione e vorrei anzi accanto oltre Ada chi ha esaminato attentamente l'opera che è Enza Conti vorrei che si avvicinasse è la rappresentante della giuria dice così di Anna Rosa vieni vieni Enza facciamo un applauso all'altra rappresentante della giuria naturalmente naturalmente riceverete il premio e anche la motivazione della giuria oltre di Anna Rosa Ceriani è un diario che attinge la penna nell'inchiostro del dolore parole che gridano la sofferenza infinita di una mamma che non trova pace né risposte sul perché ha perso il suo Francesco gli anni passano scanditi da compleanni mai festeggiati mentre il filo dell'amore li tiene legati e alimenta la fiamma della speranza che arriverà il tempo in cui potranno sentire il calore di un abbraccio quello di cui sono stati privati è un percorso che si snoda tra dolore e rabbia in momenti di silenzio tingendo di grigio i pensieri di una madre che non ha potuto nemmeno conoscere il colore degli occhi del proprio bambino negli intensi colloqui si esplica l'infinito amore che avvicina mamma e figlio e la luce interiore che illumina l'essenza di un percorso bagnato di lacrime mentre il suono di amabili parole riscaldano quel dolce momento seppur nel sogno che sussurra chiudo gli occhi anch'io mamma finalmente insieme e mi perdo un poco nel tuo cuore dove ora c'è spazio per tutti e due mi addormento con te nello spazio sereno del tuo cuore oltre è un diario che fa riflettere sul valore infinito dell'amore quel valore forza che consente di non vacillare nelle tenebre seppur le ferite continuano a sanguinare grazie a Ilza Conti la parola ad Anna Rosa che dovrei dire non so se ancora continui a dire era fermata sono 21 anni eccetera come oggi dovremmo dire sono 35 anni che si continua o qualcosa attraverso gli scritti o questa sinergia che c'è stata se riuscite un po' a superare ecco quella quella voglia forse di vedere tutto velato di non credere che ci sarebbe stato uno spiraglio forse prima non si credeva e ancora così sono 35 non 21 come lì allora buonasera mi scuso se sono un po' menzionata allora no sicuramente il fatto di aver scritto oltre mi ha fatto andare oltre ho impiegato 21 anni per dire a me stessa che avevo perso un bambino appena nato pochi giorni dalla nascita e forse ci ho impiegato 21 anni perché ho voluto grapparmi ad una frase che mi hanno detto subito dopo il parto quando non piangevo non chiedevo ero tranquilla e mi hanno detto complimenti signora perché lei è molto tranquilla ecco quel complimenti signora mi ha inchiodato mi ha inchiodato a essere forte a essere ad accettare qualcosa che in realtà per 21 anni non ho mai accettato non ho mai accettato il fatto che dopo aver sentito crescere una vita per nove mesi aver comprato completini aver progettato aver guardato ecografie non avessi nulla non ho accettato e non mi sono arrabbiata abbastanza perché ho lasciato che qualcuno dicesse no va bene signora non le facciamo vedere il bambino e quindi io non ho mai visto il mio bambino l'hanno visto altri l'hanno visto il papà l'hanno visto i nonni e io sono stata l'unica a non vederlo perché è stato un parto cesareo e mi dicevano di stare tranquilla ma tanto signora lei è tranquilla ecco non ero tranquilla per niente per cui ho camminato per 21 anni con un'assenza che evitavo per non cederci dentro cioè come avere un grande buco un grande buco nero che ti porti dietro fai altro fai tanto altro fai tante bellissime cose ho avuto altri due figli splendidi però stai molto attenta a non cadere lì perché non ti senti pronta adesso sì adesso va bene e allora proprio adesso Anna Rosa cosa dice ad una mamma che oggi si trova ad affrontare un dolore del genere dico soprattutto di affrontare il dolore dico soprattutto di non vergognarsi di piangere di essere arrabbiata di non capire di dire che non capisce di dire aiutatemi e se non si sente aiutata aiutatemi ancora perché da soli non se la non se la si può fare ed anche io dico ed anche perché ci sono le pagine nere ci sono quelle bianche ci sono quelle bianche quelle rosa c'è qualche po' di rosa quindi da lì c'è sempre quel segno che dentro c'era sempre la speranza a poter trovare qualcosa per poter dire voglio andare oltre sì io diciamo che ho capito quando ho deciso di smettere di combattere per fare la super donna per fare quella che andava sempre avanti e aveva accettato ecco e allora lì alla fine quando ho detto a Francesco basta io non ce la faccio più scusami non ti cerco più perché non ce la faccio mi ha trovata lui grazie grazie per questa esperienza per questo diario che ci aiutano allora adesso è il momento della premiazione il premio consiste in una scultura dono dell'artista Giovanna Giusto consegna la nostra presidente Ada e io inviterei anche come primo visto che doveva esserci il primo cittadino ecco indossando la bella così faccia fa anche esatto e beh è dovuto andare e anche per volere della nostra presidente Ada che sia stato a premiare il sindaco che rappresenta anche il collega di Motta Camastra bellissima questa scultura buonasera a tutti grazie per avermi invitato a chi mi ha invitato io sconoscevo l'esistenza di questa associazione sconoscevo pure qual era l'argomento di conseguenza vi ringrazio perché è un argomento che mi appassiona moltissimo ma prima ancora di qualsiasi discorso vorrei ricordarmi di qualche verso scolastico che qualcuno scriveva e rivolta alle mamme un grande poeta scriveva quando la vita era limitata mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella non ha un accento un atto un sorriso che non mi tocchi dolcemente il cuore ah se fossi pittore vorrei cambiare vita con vita da tutti il vigor degli anni miei vedermi vecchio e lei ringiovanir ma nello stesso contempo ricordo un'altra cosa che è quasi siciliana un figlio vende l'anima al diavolo della madre va la stacca e scappa quando va per portarla al diavolo cade e si fa male la madre non dice altro povero figlio mio se soppiavo questa è la mamma ecco vorrei per un attimo aggrapparmi quelle che sono state le espressioni della mia amica Alina ecco Alina io sono convinto che la vita dei morti è conservata nella memoria dei vivi e anche per questo si rimane aggrappate al proprio territorio a quello che si ricorda qualcun altro diceva e siamo siamo a dea della memoria che ci fa ricordare quello che eravamo quello che siamo ma le radici profonde non gelano mai grazie per avermi invitato grazie come vedete la statua è con raffiguri proprio questo diario che si porta fra le mani il premio proprio dell'associazione la lanterna bianca primo premio in questa ventiduesima edizione Anna Rosa Geriani oltre e naturalmente abbiamo questo secondo è proprio noi voci invisibili invito qui il papà di Elisa eccolo accogliamolo con un applauso perché assieme alla mamma che ha portato per questo a far partecipare a questa edizione e da lì ho preso soltanto due paroline Elisa ci parlerà adesso il papà Elisa conosce la potenza delle parole che hanno il dono di creare la realtà anche quella impalpabile torbida e strisciante della malattia mentale in questo testo ci sono due Elise che si parlano si affrontano severamente sia per la vita sia per la morte ed Elisa diceva questo soffrire di un disturbo mentale non è come avere un braccio rotto lo sorrotto lo vedi vai in ortopedia e te lo fa ingessare il disturbo mentale infimo si nasconde dietro di te fino al momento in cui decide di uscire fuori e allora è arrivato il momento di combattere questo racconto raccoglie flash di vita che potrebbero essere i miei o i tuoi o quelli del tuo migliore amico del tuo vicino di casa i tuoi genitori ma soprattutto raccoglie un quadro estremamente personale di come si convive con un disturbo invisibile ma ricorda noi non siamo soli prego la parola al papà grazie grazie per l'invito Elisa Elisa sarebbe orgogliosa di questo premio le parole che vi ha letto la signora sono parole che ha scritto Elisa durante uno degli ultimi ricoveri nel reparto psichiatria dove si era resa conto che ha scoperto un mondo fatto di disagio di malattie di giovani soprattutto come lei che spesso non avevano supporto che lei invece trovava uscendo dalla psichiatria e scrisse questo libro durante i ricoveri cercando di dare voce a tutte le persone come lei voce invisibile che nella società odierna non hanno voce aveva preso un impegno uscendo da reparto voleva divulgare questo libro e farlo uno strumento forte potente per dare aiuto a chi era più sfortunata di lei non è riuscita nel suo intento abbiamo raccolto noi questo libro e abbiamo esaudito il suo desiderio pubblicandolo pensando che quello fosse il punto di arrivo della storia di Elisa e invece da lì è nata una seconda storia dalla pubblicazione del libro nel territorio dove noi abitiamo in Piemonte in provincia di Cuneo grazie alla volontà della psichiatra e delle persone che seguirono mia figlia negli ultimi giorni negli ultimi settimane è nata una nuova storia è nata un'associazione che hanno voluto chiamare la voce di Elisa e questa associazione non fa altro che ricalcare e replicare quelle bellissime iniziative che ho trovato qua in Sicilia combattere lo stigma era l'obiettivo di Elisa abbiamo un duplice scopo con questa associazione intanto perché è fatta da volontari del settore quindi specialisti psichiatri psicologi medici e si stanno facendo carico del disagio giovanile del territorio rivolgendosi tramite una convenzione all'ASL locale ma soprattutto raccogliamo fondi attraverso iniziative e proprio il teatro la danza e la musica in collaborazione con i volontari dell'associazione che si prendono in carico i giovani che sono seguiti dai centri di salute mentale li mettiamo al pari degli artisti li mettiamo al pari delle persone normodotate non c'è differenza tant'è vero che questo secondo anno da quando è nata l'associazione perché è nata lo scorso anno a settembre il prossimo autunno nell'ambito del mese della salute mentale per chi sa ottobre cioè il 10 ottobre il giorno della salute mentale organizziamo un festival del rumore cioè facciamo rumore attorno a questi temi e proprio due o tre spettacoli teatrali delle passeggiate delle serate gastronomiche organizzate con queste persone e il modo migliore per coinvolgere le famiglie sensibilizzare il tema alle istituzioni e le istituzioni locali ci stanno venendo dietro il sindaco ci ha messo a disposizione dei locali l'ASL ha fatto una convenzione con noi alcuni studenti di psicologia dell'università di Torino stanno facendo le 700 ore di tirocinio e stiamo seguendo 40 ragazzi che volontariamente hanno scelto di farsi seguire senza passare dalle strutture pubbliche ecco il libro di Elisa le parole del libro di Elisa sono diventati fatti concreti ed è il progetto che voleva lei per me in questo modo mia figlia continua a vivere ed è l'unico modo per superare il dolore di mamma e di papà grazie grazie Lina se mi consenti sull'argomento vorrei dire qualcosa vissuto in prima persona vede io il mio primo TSO che ho fatto l'ho dovuto fare ad un mio figlioccio a cui ero affezionatissimo e credimi a casa mi trovo mia figlia che fa psicologia clinica giuridica purtroppo nelle carcere che per un paio di giorni mi ha dovuto dare conforto per spiegarmi che era qualcosa che dovevo fare se mi consente il tema del TSO il tema del disagio il tema delle medicine sono tutti temi che in questo libro vengono affrontati in maniera io direi quasi magistrale da questo racconto tocca tanti temi effettivamente chi ha la possibilità di leggerlo se ne volete ne ho qualcuna disposizione ma tocca tanti temi in maniera trasversale e con un orgoglio vi posso dire che la facoltà della Università di Novara di scuola infermieristica ha adottato questo testo come testo di discussione perché anche gli infermieri sono coinvolti in questo racconto ma in maniera costruttiva in maniera molto critica critica costruttiva ponendosi delle domande infatti lei è intervenuto dopo stavo dicendo proprio questo per trovare le risposte a certe domande che ci facciamo si pongono eccetera basta leggere realmente si trova tutto e in una maniera veramente delicata senza andare lì perché la critica deve essere proprio questa quella costruttiva che ci deve aiutare ecco non ci dobbiamo sentire responsabili di qualcosa che viene detto se siamo addentrati dobbiamo farne tesoro perché guai a noi saremmo degli asini con i paraocchi cioè fortunatamente si deve vedere da tutte le direzioni e ascoltare ciò che ci viene detto per migliorare prima della consegna del premio che c'è sempre Ada e il sindaco leggiamo la motivazione sempre nella nostra Enza Conti Noi Voci Invisibili è un diario che dà voce all'esperienza silenziosa e devastatrice di un dramma nel dramma Elisa scrivendo la sua lotta contro quella spata di Damocle che inesorabilmente è pronta a colpirla ha lasciato una grande eredità con i suoi pensieri affinché chi leggerà il suo diario possa comprendere la sofferenza di chi lotta contro il disturbo invisibile pagine che narrano la sua triste esperienza la sua forza e la sua determinazione nel voler sconfiggere quel male che stava anniettando i suoi progetti i suoi sogni la sua vita il male con spietatezza scalfisce l'animo e senza pietà le toglie la voglia di vita spingendola nel tunnel buio che non ha uscita le esperienze descritte con molto coraggio sono un testamento interiore il ricovero in clinica il desiderio di normalità il rapporto intenso con i genitori e la capacità di leggersi dentro per annientare la sua fragilità sono confessioni di un animo che vede assottigliare sempre la sua voglia di vivere Elisa ha lottato con tutta se stessa per debellare la voglia di morte quella che arriva in varie forme la sua purtroppo è arrivata cullandola con le braccia vellutate è un testo che va letto e riletto per l'intensità dei messaggi tra questi quello più doloroso e triste che ci ha lasciato ovvero la vita ha un valore e ne va fatto tesoro un tesoro che lei purtroppo non ha potuto difendere quindi un invito a non desistere e lo fa con le sue pagine che esortano a non cadere al terribile male che giunge in silenzio per toglierti ogni speranza grazie 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 al signor Schimila grazie sindaco grazie a te grazie secondo classificato Usai Caterina vorrei invitare qui Caterina Usai se è presente perché ha ottenuto il secondo posto con diario in tempo di covid e anche qui abbiamo un premio consistente in una targa con medaglia argentata e il diploma noi eventualmente andiamo così avanti se per caso c'è io l'ho chiamata diario in tempo di covid Usai Caterina dove dice ecco qualcosa di importante le donne possiedono tre cose questa è una cosa tre cose importanti dentro di loro è una denuncia a questo mondo che ancora fa lottare fa faticare moltissimo la donna per avere quei diritti che che le aspettano e cosa dice di queste donne quali sono queste tre cose coraggio intelligenza forza ecco quello che traspare da queste due se pagine e allora come si fa lei dice a non dare occasione per una seconda volta a chi ha sbagliato perché molte volte quando si riceve una violenza è una grande denuncia di grande violenza contro la donna e delle volte si dice non bisogna denunciare immediatamente perché può darsi è stato un momento perché è una brava persona cioè una persona che tutti reputiamo cioè gentile sarà stato un momento e allora ecco lì la donna che con forza consapevole che possibilmente sta sbagliando però dà un'altra possibilità ma qual è quella possibilità noi diciamo nel nostro gergo chi nasce tondo non può morire quadro a volte questo si realizza e la denuncia è di una donna che ha trovato il coraggio e la sua la sua motivazione verrà presa attraverso il testo che ritirerà presso la sede ed è la motivazione di della nostra Maria Lilia Papa che in questo racconto diario in tempo di covid dice questo così voi capite anche la motivazione del premio permette questo racconto all'autrice Caterina Usai di narrare con situazioni verosimili il percorso di emancipazione e la conquista della libertà di una giovane donna innamorata che diviene vittima della violenza del marito durante i mesi della pandemia gli eventi hanno poco cioè poco a poco prende coscienza alla protagonista degli abusi di cui è vittima e della necessità di trovare il coraggio di allontanarsi e di venire indipendente di chi è unica ecco qui è vero credo di capire perché l'ha scritto così di chi è incapace di rispettarla e farla vivere con dignità ecco incapacità di rispettare Maria grazie sicuramente la nostra Caterina Usai ritirerà attraverso questo e il suo testo grido di aiuto e di dolore di una giovane donna contro la violenza e gli abusi del suo uomo un urlo ancora inascoltato verso la libertà dovuta invece a tutte le donne terzo premio Zanchetta Anna Maria anche lei è assente testo chi ritira per lei è assente dalla casa del tempo perduto e allora Maria ecco sì la motivazione la leggiamo e poi lei ritirerà presso l'autrice dell'epistolario dalla casa del tempo perduto Anna Maria Zanchetta conosce molto bene gli ambienti delle case di riposo e conduce il lettore con gran brio e buon senso in una di esse immaginata negli anni settanta tra le varie pagine a volte anche ricche di gradevole umorismo troviamo però l'analisi acuta di tante situazioni verosimili e quel filo conduttore delle vite di coloro che stanno vivendo l'ultimo capitolo della loro esistenza il bisogno di amore e tanta solitudine male della solitudine urgenza di amore e condivisione di cui questo mondo ne è ancora sprovvisto queste sono le parole dell'autrice tutti dobbiamo portare i pesi che ci sono stati assegnati e lei con un'ultima pagina che scrive proprio alla figlia dice io mi ritrovo in un luogo dove devo assistere consapevole a ciò che avviene degli altri e la solitudine che si sente in queste case ecco lei denuncia essere trovarsi in una casa di riposo è una denuncia proprio che fa con grande forza alla fine alla propria figlia e proprio quando dice tutti dobbiamo portare i pesi che ci sono stati assegnati ma io con questo mio scritto ti carico sulle spalle il tuo io ti lascio non ti cercherò più ti abbraccio perché qui io vedo morire ad uno ad uno e vedo andarsene persone senza nessuno accanto e questo non è giusto ecco un'altra denuncia un altro grande tema di oggi di questa società che per variati motivi anche qui non si può giudicare a volte si è costretti ad agire in modo diverso quarto classificato De Vita Giovanna in trincea sbocciano i fiori sono delle lettere un epistolario diciamo lettere d'amore e di guerra di un eroe Gaetano De Vita che era un prozio un suo prozio e scrive sorretto da un grande amore l'amore di Elena e la voce a chi ha scritto e ha trovato spunto per far emergere che anche in un periodo di grande guerra e di dolore l'amore riesce a vincere avevo a casa questa raccolta di lettere partiamo un po' dall'inizio una sua sorella aveva raccolto tutte le lettere che il fratello le spediva dal fronte le spediva la famiglia e per mantenere viva la memoria del fratello la rilegate in un libro distribuendolo poi a tutti in famiglia quindi io da quando ero adolescente da quando avevo 15 anni io leggevo e rileggevo queste lettere perché sono bellissime sono di una di una intensità unica e un ragazzo che purtroppo parte per fare un corso allievo ufficiali che ancora la guerra non era scoppiata però poi si ritrova a dover combattere in prima linea e una serie di eventi lo fanno incontrare con questa Elena la sua diciamo la sua consolazione era l'unico punto l'unico raggio di sole nel buglio della guerra e grazie a Elena riesce ad andare avanti per quello che è possibile poi insomma durante una guerra e l'unico modo di comunicazione insomma all'epoca erano le lettere e ogni giorno ogni giorno lui scriveva una lettera alla famiglia alla sorella ai fratelli alla mamma al papà insomma a tutti quanti compresa Elena non raccontava nello specifico che cosa succedeva in guerra proprio per non dare apprezzione per preoccupazione in famiglia sono più pensieri poi suoi personali e quindi sulla base di queste lettere ho pensato di scrivere questo libro sotto forma poi di diario perché è lui che racconta la vita che si fa al fronte una delle cose più belle che le ha messo a conclusione è proprio questa questa non è soltanto dice lei la storia di Caetano ma è quella di tanti soldati che come lui si sono sacrificati e continuano a farlo per la propria patria sì ma è così allora io quando ho cominciato a scriverlo ancora non era scoppiata la guerra in Ucraina è quella che sentiamo più vicina ma di guerre ce ne sono poi quando stavo per pubblicarlo insomma mi è sembrato doveroso scrivere questo finale perché non si guarda soltanto ai caduti in guerra delle guerre passate ci sono tanti che combattono stanno combattendo e hanno combattuto anche recentemente e noi con questa occasione proprio ci rivolgiamo veramente ai capi a coloro che stanno dietro quelle scrivanie perché ai nostri giovani ai nostri figli di oggi non possono fare vedere nel 2023 parlare ancora di guerra ecco quando noi da piccole pensavamo che mai più ci avrebbe toccato ma che ci tocca non possiamo dire mai che siamo lontano siamo staccati dobbiamo vivere quel dramma che poi è anche nostro grazie grazie a voi dottore Motta consegniamo il premio io ringrazio veramente voi per questa opportunità grazie a Giovanna di vita quinto classificato e con immenso piacere che io rivedo in questa occasione una persona che conosco da molto molto tempo perché abbiamo culturalmente ecco parlando partecipato a tanti concorsi l'ho visto protagonista di tante manifestazioni perché è un pittore è un poeta è un medico è specialista in riabilitazione e sto parlando di Antonino Filippello ecco lui vuole essere chiamato così senza quei titoli che sono il coronamento vedete quello che conta è il quadro poi le cornici sono tante lo possono rendere più bello o meno il testo è le urla degli invisibili ecco abbiamo in questo diario quest'anno questa voce questa parola invisibile per la seconda volta la ritroviamo nel titolo di un testo la vita nei suoi aspetti più magici delusioni lui denuncia denuncia la bassezza che esiste nella politica parla di speculazioni e delizie parla di ghetti di droghe di solitudine ma è un uomo ricco di entusiasmo ed ha fiducia nella vita la vita che secondo lui e che è anche ottimista dice sempre trionfa e l'altra fiducia ce l'ha nella speranza perché rende forti coloro che ci credono perché bisogna credere e allora alla fine del testo troviamo anche delle troviamo anche le liriche ma troviamo anche i suoi dipinti quindi il testo è molto bello perché fa vedere nel modo complessivo quello che è la sua la sua figura e poi quello che traspare tantissimo è l'amore per la sua terra ecco in tutto ecco le radici sono quelli che lo trattengono urla degli invisibili Antonio Filippello quando dovevo scegliere una professione da fare avevo pensato al professore di lettere di scienze poi però Dio ha voluto in qualche maniera scegliere la strada per me e mi ha indirizzato verso la medicina casualmente e io devo dirgli devo dire addio grazie per questa strada che mi ha scelto perché oggi è una grande motivazione per me è un grande stimolo e mi dispiace io non voglio commentare quello che è successo con Filippo Tripolone quando una persona che deve stare accanto a chi non ha più speranza e dice che dovrebbe curare quella sua sofferenza di speranza e dice guarda che non ce n'è speranza più per te non c'è più speranza quello è un medico sbagliato al posto sbagliato perdonatemi se dico questo però siccome riguardano i medici che la speranza non la dobbiamo fare perdere mai nemmeno all'ultimo respiro per noi è mortificante che si sia detto una cosa del genere e possibilmente quel ragazzo si sarebbe potuto salvare se solo avesse avuto qualcuno che quella speranza non gliela avesse negata io vivo tra i disabili disabili mentali perché abbiamo tanti bambini autistici uno più bello dell'altro abbiamo disabili fisici ma anche loro hanno una disabilità mentale perché quando un ragazzino di 17 18 anni disabile è seduto sulla sede oratelle che sente una una tempesta ormonale verso l'altro sesso e sa che quell'altro sesso non ci può arrivare perché lui ha quella disabilità giustamente è un dolore un dolore sapere che quel ragazzo vive quella quella vita magari non la manifesta però accanto al dolore c'è pure la gioia che prova un medico perché dall'amore che il medico riesce a dare a queste ragazze a queste persone che soffrono che sono disabili fisicamente e mentalmente se veramente li ama ha un grande ritorno d'amore e questo infonde tanta gioia perché accanto al nostro dolore che viviamo tutti i giorni c'è anche tantissima gioia io non voglio dilungarmi molto sulle mie cose perché casualmente qualche giorno fa ho pubblicato una poesia e la signora mi aveva chiesto insistentemente quella poesia ho cercato di fargliela pervenire per scritto e non ci sono riuscita gliela ho inviata attraverso whatsapp e non l'ha letta perché è stata moltissimo impegnata allora casualmente mi sono accorto che stasera io ce l'ho con me ma è casualmente perché io l'avevo inviata a lei e se permettete vorrei leggerla scusate se non la leggerò bene un po' perché sono scosso un po' perché quello che è successo stasera mi ha fatto avere un aumento di liquido lacrimale per cui a parte che sono ciecato crea ulteriore difficoltà alla mia visione vediamo se riesco a ingrandirla più che posso la poesia si intitola fuori di testa dedicata a tutte le persone che non riescono a fare ordine nel loro cervello vivo sospeso tra realtà e fantasia percorro una via che è solo la mia non perché sia un irriducibile ribelle ma perché pago un dramma sulla mia pelle non vedo una vita come tutta la gente ma come deformata da una vecchia lente e per quando mi sforzi di essere uguale resto nella solitudine di un uomo anormale quando mi muovo somiglio a un orso ed impacciato se voglio fare un discorso vorrei sempre trarmi fuori di impaccio e invece combino solo un pasticcio mi scatta qualcosa e perdo il controllo e senza un motivo mi avvento sul collo e questa è una cosa davvero frustrante la gente ha paura e mi tiene distante ma non riesco a farne mai una giusta e chi non mi capisce spesso mi frusta non faccio apposta ad essere distratto se rinascessi non vorrei più essere matto sono spesso oggetto di compiaciuto ludibrio mentre io cerco un disperato equilibrio ma oltre la confusione niente più mi resta e anch'io mi rassegno che sono fuori di testa non comment abbiamo altro che è l'emozione interpretare perché chi scrive cioè come se fossi lì nella tua cameretta a scrivere ecco e a manifestare quella parte di te che poi è una parte che fa quella denuncia a cui tutti dovremmo riflettere e lo stiamo facendo e l'abbiamo fatto per la premiazione io vorrei accanto ecco non solo Mamma Ada ma anche la nostra Enza Conti Maria Ilia e Agnese Calabro che fanno parte della giuria insieme per premiare il nostro Antonino Filippello io ne approfitto per salutare il papà ho visto il papà presente vorrei salutarlo con immenso affetto ecco perché accompagna ovunque il figlio ha una bellissima età è sempre negli anta ha superato i novanta che fa anche rima ma guardate lì ha uno spirito 89 ci siamo ma ha realmente la vitalità e la presenza in qualsiasi manifestazione che il figlio fa con immenso affetto grazie grazie anche per questo bravo figliolo eh grazie a voi e dopo tanta commozione concludiamo sempre con un sorriso grazie grazie sesto classificato Mainardi Elena che assente la forza tra la sbarra lei dice ho saputo trasformare le debolezze in forza creandomi scudo imbattibile verso le difficoltà della vita consapevole che del futuro non v'è certezza la soluzione ai suoi problemi la danza attraverso la danza ha continuato a vivere facciamole un applauso e prenderà il proprio premio presso l'associazione allora premi speciali io menziono i nomi verrà soltanto chi è presente Morelli e Eugenio treviso i quattro cavalieri dell'apocalisse naturalmente per questi premi ci sarà una targa ed un diploma sono assenti e li ritireranno attraverso la nostra associazione la sede qui poi e ancora a costo di Toronto Canada ride over lifetime ok perfetto allora allora la doccia mia tu sai quanto ti amo da una vita no? scusate ma è una pubblica cosa e scusami se dopo 22 anni voglio concepire da oggi in avanti siamo in intelligenza artificiale c'è tutto il mondo che cambia cambiamo questa immagine di Filippo Filippo è morto tragicamente a 33 anni ma ha creato una cosa megagalattica io non so perché non so il numero di testi che voi avete analizzato che avete premiato ma ragazzi mi viene la pelle d'oca è un esercito di persone che tramite Filippo non sono più invisibili perciò secondo me ora ci dobbiamo rallegrare di quello che ha fatto Filippo perché ha creato persone visibili che se lui non ci fosse stato sarebbero stati invisibili per cui ringrazio te ma ringrazio Filippo con un sorriso una volta tanto cerchiamo di vedere ora Filippo come una grande 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 persona scusami ma te lo devo dire allora intanto chiamo vuoi presentare c'è qualcosa comunque proprio perché e qui mi concordo con la signora la guerra è stata devastante nel suo caso nel caso di molti casi simili a quelli ucraini i prussiani che sono stati colpiti sia dai nazisti che dai polacchi e hanno perso tutto e una parte della Germania che poveretto ricordiamo tutto Federico II di Prussia era uno degli stati più importanti nell'Ottocento distrutto completamente dalle invasioni e non solo questi la guerra in Kosovo tante altre guerre più questa nostra recente quello che non ci accorgiamo e con questo concordo molto con lei che questa guerra dell'Ucraina perché è così conosciuta perché abbiamo i media abbiamo i mezzi e perciò è molto facile conoscere tutto ma nel passato nel caso del prozio o nel caso di Arcos loro erano persone che vivevano una vita normale come le famiglie ucraine a un certo punto non hanno più avuto proprietà non hanno più hanno avuto più diritti non hanno avuto potevano neanche più parlare di conseguenza è secondo me molto importante che questi diari nel suo caso o nel mio caso di persone di Arcos che ora vi saluterà vengono conosciuti perché ci fanno riflettere come dice veramente lei o non so chi l'ha detto oggi ma è possibile che le varie scrivanie nel 23 dobbiamo ancora lottare con una guerra per un confine e non pensiamo ai genitori che hanno perso i loro figli io quando vedo quelle famiglie quelle case distrutte dico ma non è possibile che ce ne abbiamo 600 km non è solo dall'altra parte del mondo a parte quelle in Asia e in Africa per cui è il caso che questi diari vengano in un certo senso anche riletti in modo tale da portare avanti le sofferenze che non sono altro che ripetizioni e qua parliamo tanto degli ebrei tanto di cappello ma lì non si fa il giorno del remember delle rimembranze anche queste guerre passate che sono state così pesanti dovrebbero essere ricordate soprattutto per le tragedie che si portano dietro allora se voi permettete mi collego con il Canada Akos è un ingrese che logicamente in base alle guerre di cui vi ho parlato è arrivato in Canada sempre poverissimo e piano piano si è ricostruito una sua vita e Invecchiai ha scritto questo libro che oggi ho il piacere di rappresentare Akos voleva salutarvi perciò mi sto collegando in diretta da Toronto in modo tale che sperando che funzioni e noi lo ringraziamo per questo escurso storico che fa di questa famiglia che comincia dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai tempi in cui lui va in Canada e ha sempre le radici attendiamo si stiamo collegandoci Akos you are in direct with the literally award of Ada Tripolone facciamo sentire il vostro applauso vicino forse si mette viva voce ah ok wait Akos can you repeat for my for my for my life lifetime especially I want to thank Sabina Romano who introduced me into this Materna Bianca company and I'm really grateful for their consideration and I really thank them very much I am sorry that I cannot be there a little too far but I wish I was there I am very excited thank you very much for all of me thank Akos I make the translation Allora lui ha detto che vi ringrazia moltissimo di avergli dato questa possibilità si dispiace perché dove essere qui presente ma un ritardo dell'aereo gli ha fatto perdere la possibilità e augura un grande successo di cultura alla vostra thank Akos ok questa era la lettera la motivazione stavi leggendo del libro era semplicemente dire cosa è questo diario la storia di questa famiglia che dalla seconda metà dell'ottocento emigra finché lui arriverà nel 57 in America si stabilisce in Canada e poi fa la storia di tutti i fratelli e sorelle quindi questo è stato un momento molto bello perché le radici ecco trapelano ogni parte dei suoi scritti e quindi questa è la giuria che ha voluto fare e anche perché vi dico una cosa proprio per la nuova mia esperienza familiare in Canada gli italiani ungheresi dovevano rinunciare alla loro cittadinanza per cui dovevano perdere proprio le radici per poter stare in territorio canadese non avere un'alternativa o Canada o America o Morire per cui si parla tanti di tutte le popolazioni ricordiamoci anche di loro e complimenti al loro coraggio intanto grazie grazie e invito rappresentanti dell'amministrazione comunale se c'è l'omonaco Livio e Mariangelo Orlando per la consegna la consegna del premio premio che arriva in Canada grazie bene grazie ad Encuracos Toronto Canada per A Ride of a Lifetime targa e diploma e adesso altro momento emozionante un premio speciale ad Emanuela Cagnola la nostra mano con il suo diario di mano un po' bassino adesso sistemiamo il tutto grazie 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 cosa dire le emozioni sono tantissime ringrazio l'Ata Tripolone presidente mia cara grande amica la mamma Ata ringrazio i giurati e ringrazio perché sono stata forse capita questo questo diario che ho scritto l'ho scritto che ero ragazzina però i sentimenti che ho avuto durante tutti i corsi della vita hanno fatto sì che questa che queste emozioni si trasformassero in realtà in realtà vera io sono stata adottata da una famiglia piemontese del lago d'Orta perché dove sono nata io che nasceva con una deformità o con gli occhi azzurri con una pelle scura oppure di Albina veniva assolutamente assolutamente soppresso questo mi ha portato al nord con dei genitori che erano di origini milanesi che si sono trasferiti sul lago sul lago d'Orta io da lì ho visto tutta la mia infanzia e la mia infanzia è stata molto travagliata però devo dire che in un paesino di 1200 anime sono stata bene accolta e bene inserita il diario mi è servito tanto perché mi è stato un grande amico un grandissimo sostegno soprattutto in un periodo dai 13 ai 20 anni un po' un po' di difficoltà e nei diari sclericavo le mie emozioni le mie cosa dire le mie emozioni positive negative sull'amore e che poi alla fine diciamo che adesso che ho 53 anni tutto quanto è andato più o meno al posto diciamo che mi sono diplomata stilista a Firenze dove mi sono venuti incontro anche i professori professori che hanno tolto dal busso di drappeggio l'asta per farmela mettere in terra hanno tagliato la macchina da cucire le gambe per potermene poi mettere in terra perché io con i piedi riesco a fare qualunque cosa dal vestirmi al svestirmi al truccarmi a lavarmi e in questi anni ho trovato anche una persona fantastica che è mio marito Gian Battista la prima volta che ho venuto qua in Sicilia fu il primo nostro grande viaggio insieme essere amata per come sono e non essere sempre sì sono stata ghettizzata lo sarò sempre perché mia mamma mi ha sempre detto ma non siamo simpatici a tutti per la carità però questa cosa mi ha dato forza mi ha dato i miei genitori mi hanno dato tanta forza tanta forza di dire dai ma ce la possiamo fare e ultimamente dal 2009 in avanti non solo ho fatto delle mostre di disegno ma ho anche potuto collaborare con i bambini i bambini a fare fare dei laboratori nei quali io insegnavo tra virgolette a disegnare a loro col mezzo dei piedi anche se erano tra virgolette normodotati perché io dico sempre i bambini i bambini siamo tutti diversamente abili perché abbiamo tutti una diversa abilità e poi dico ai bambini qual è la vostra diversa abilità siete capaci di accudire un gattino di fare un caffè alla mamma al papà e in questa cosa è una cosa molto bella perché nel momento in cui i bambini piccoli dai 3 anni ai 12 15 anche 16 anni i ragazzi dico loro adesso voi mi vedete siete un po' spaventati adesso che impariamo a dipingere insieme io mi racconto mi ghettizzate ancora avete ancora paura di me e i bambini dicono no adesso ti conosciamo Manu e non abbiamo più nessun timore secondo me imparare questi laboratori per me sono stati molto mi hanno dato molto perché ultimamente ne ho fatti alcuni in cui i bambini mi hanno fatto tantissime domande una di queste è stata Manu ah sì guidi la macchina mi fai vedere come fai e io ho mostrato loro poi un bambino mi ha detto ma come fai a aprire il cofano e io ho fatto così così allora il bambino mi ha detto ma adesso c'è c'è il pulsante automatico cioè sì e vai a fare la spesa da sola io dico sì sì vado nel mio paese vado a fare la spesa ma se devo fare una spesa grossa a supermercato normalmente vado accompagnata con qualcuno e loro mi hanno detto eh Manu ma adesso la spesa si può fare online per cui questa cosa mi ha dato molto molto diciamo che da quando ero ragazzina e sono venuta qui in Italia adesso che sono passati 50 anni perché sono venuta qui nel 71 72 70 70 quasi 72 le cose rispetto alle persone con una diversa abilità se uno parla di la viesità mentale che è meno visibile la mia è talmente visibile che spaventa sempre un po' tutti la gente non sa mai come fare oh mamma gli ho dato questa cosa adesso si è offesa io ma non è che non mi offendo anzi grazie grazie io dico sempre grazie alle persone che mi vengono incontro e ho girato il mondo in questo modo perché ho trovato nelle persone negli altri le braccia che io non ho avuto quelle che si possono manifestare come le mani di Dio non saprei le braccia che comunque ho trovato in giro dappertutto esattamente dappertutto sono stata a New York ho girato New York da sola mi sono anche persa e ho trovato delle persone che mi hanno indicato la strada per tornare a casa sono stata in Marocco ho fatto un tour delle città imperiali da sola e lì ho trovato tante persone che mi hanno dato una mano si parla tanto di Ucraina io non sono stata in Ucraina ma sono stata in Russia sono stata a San Pietroburgo e Mosca e ho visto anche l'aurora boreale e non l'ho fotografata mi hanno detto ma non come hai visto l'aurora boreale e non l'hai fotografata c'è gente che va apposta per vedere l'aurora boreale e non la vede e tu che l'hai vista non l'ho fotografata però per dire che non so più cosa dire in effetti però io credo che sia importantissimo poter scrivere un diario perché il mio diario è stato un grande 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 amico e il diario che il diario di Manu racconta un po' di queste storie d'amore tragiche 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 poi in realtà alla fine l'amore l'ho trovato davvero era un amore che non era così come dire non romantico nel senso che non fosse romantico ma non finto come io pensavo che fosse quando la ragazza il principe azzurro arriva bla 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 problemini abbiamo sempre Gianni però siamo sempre sono dieci anni che siamo sposati dopo vent'anni che ci conosciamo e adesso il mio miglior amico è mio marito però il mio diario finché non ho avuto sì sì uscivo vedevo le persone però quanta gente dice oh mamma mia mi sento solo in mezzo a tante persone e il diario mi è proprio servito come come non so ancora di sfogo ancora di 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 senza quello probabilmente sarei avrei dato di matto come dire invece quella cosa lì il diario scrivere poi appunto mi sono diplomata stilista a Firenze dopo tre anni mi sono laureata a Vercelli in filosofia e comunicazione qualche anno fa tutte queste cose sono state tutte le mani di tutte le persone che ho conosciuto al mondo da chi le posso aprire la porta le posso asciugare il sudore le posso prendere un caffè le mani del mondo questa cosa di di affidarmi a un diario è stata una cosa che è impagabile grazie 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 Manu che dice io non so più cosa dire ha detto tutto e Manu ha lasciato noi senza parole perché ci fa fare un viaggio a ritroso ecco in tutti quelli che sono i problemi dei nostri giorni quelli che noi ci poniamo sempre e attraverso queste parole e questo premio io intanto invito il presidente della giuria il professore Manitta Angelo per la consegna del premio assieme ecco vieni qua Ada non so chi c'è più dell'amministrazione comunale se è rimasta soltanto ecco è assieme grazie grazie venite insieme con le parole di Manu io ne approfitto anche per salutare e mi chiedo a tutti di fare un applauso sia al nostro Rosario Messina e ad Angela Lombardo che sono qui e con la storia di Manu che sono andata indietro nel tempo ricordato la storia di Fulvio Frisone ecco un'altra che lei come presidente della Mea Lux ha portato siamo stati insieme dove grazie alla mamma le battaglie per far capire quanto siamo noi diversamente abili non abbiamo proprio capito e la ricchezza che otteniamo da chi ci è accanto grazie questa sera Manu grazie per quello che ci hai detto per queste pagine di vita e permettetemi permettetemi di chiedervi un applauso al suo compagno di vita perché ne parla così tanto così bello e vedere questo amore è un po' è un po' la dimostrazione io mi rivolgo alla vicepresidente e dico ogni tanto ogni tanto c'è qualcuno c'è qualcuno che realmente ama con la A maiuscola questo significa amore questo è anche un esempio bello da ricordare grazie grazie ad Emanuela Cagnola col suo diario bene adesso ecco adesso venga grazie Emano buganza buganza marco premio speciale fino al tuo ultimo respiro io man mano che chiamo chi è presente si avvicina così io so chi c'è e così ne parliamo ecco questo non c'è lo posso dire lo ricordiamo con un applauso perché è stato presente ogni anno veniva dal Brasile e l'Aurelio Marcus con Bondoso Deus questo premio ha avuto una segnalazione di merito perché verrà a fine mese e poi verrà direttamente qui in sede Francesco Gemito vivo nel tuo ricordo Napoli dal santo Vittorina con fiocchi di luce maestrelli Claudio eccolo maestrelli Claudio Mantova l'enigma delle gemelle con un sottotitolo l'eredità della guerra Buonasera a tutti i presenti ringrazio la signora Ada e la Giulia per avermi premiato questo mio libro fa parte di una serie di cui racconto dalla vita dei miei genitori al resto poi dai figli e io le mie avventure e le conoscenze delle persone che hanno avuto fiducia in me per raccontarmi la loro vita in parte conosciuta perché vissuta con loro ma il resto della loro vita e in questo particolare sono due gemelle che una gemella pensa che la sua gemella è morta sotto un bombardamento e invece la ritrova e questa gemella è malata di cuore e lei gli dona tanto amore e cerca di farle vivere gli ultimi anni nel migliore dei modi e mi sono sentito proprio di scriverlo questo libro proprio per il grande amore che questa sorella ha avuto per la sua gemella grazie 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 a Claudio e inviterei il nostro giornalista Rosario Messina per la consegna del premio a maestrelli Claudio l'enigma delle gemelle il premio consiste in una coppa e diploma io intanto vedo se c'è presente Esther Eroli di Roma con l'arrivo del crepuscolo l'ittera franca greco carmelo ok così ci siamo perfetto bene delle volte ecco può anche capitare fra le carte insomma di andare a cercare il premiato ecco Rosario Messina premio a Claudio Maestrelli grazie bene Greco Carmelo bombe su Palermo dolore di madre prego buonasera a tutti e grazie per l'invito conosco la signora ci siamo sentite diverse volte per telefono è una persona squisita allora bomba su Palermo è il racconto che ha fatto mio padre sottoscritto racconto orale perché quando prendevo la carta e penna per prendere gli appunti si fermava la prima parte del diario racconta un episodio di guerra avvenuto nel porto di Palermo il 7 gennaio del 1943 quando una squadriglia di aerei americani ironicamente chiamate Liberator bombardano la città di Palermo con un bombardamento che è stato uno dei più ruovinosi durante la seconda guerra mondiale tra queste vittime viene colpita la nave bersagliere e 59 marinai muoiono sul colpo mio padre si salva e 12 anni dopo vengono recuperati dentro la nave i corpi quello che rimane dei corpi dopo 12 anni sulla nave in pasto ai pesci vengono recuperati i resti degli altri marinai si svolge una solenne cerimonia funebri sul molo del porto di Palermo che nel frattempo prima si chiamava molo sud poi diventa molo bersagliere viene chiamato in onore di questo episodio mi ha colpito molto questa rievocazione sono andato a cercare nei vari archivi di stato di Palermo l'ufficio storico della marina militare di Roma e l'archivio di stato di Roma e ho trovato delle foto molto interessanti una in particolare mi ha colpito la mamma di un marinaio morto 12 anni prima in una drammatica foto si vede il dramma di una di una mamma che dopo 12 anni non è ancora non ha ancora assorbito questo dolore di una di una morte così un ragazzo di 22 anni marchigiano per l'occasione anche perché sulla nave c'erano imbarcati che sono friulani milanesi che col mare magari non l'avevano mai visto però stavano stavano a bordo e ho paragonato un quadro della Madonna che piange il Cristo morto abbiamo tutta una una letteratura una delle sculture che parlano della Madonna che regge il corpo del figlio a me ha colpito molto quella quella foto e ho fatto una comparazione fra il dolore della Madonna che dimora il figlio e questa mamma che chiede ancora di baciare per l'ultima volta questa questa bara delle piccole bare proprio che contenevano questi piccoli resti e mio padre è morto nel 1994 95 anni e abbiamo sempre mantenuto questo rapporto di portare avanti questa storia di questa nave e questo ho detto tutto grazie grazie a Carmelo Greco con bombe su Palermo dolore di madre premio sempre una coppa e diploma a consegnare Agnese Calabro della giuria componente giuria Antonio Sozzi Alcantara anche qui il premio consiste in una coppa e diploma cito soltanto un pezzetto che dice l'esistenza di ognuno di noi fa parte di una storia più grande se ci fa capire la vita di chi ci ha preceduto e scoprire quella storia significa anche vivere un'esistenza più consapevole ho voluto raccontare con il mio romanzo perché è un romanzo piuttosto che un saggio la storia di questa bellissima valle dove ho vissuto a Santa Domenica Vittoria qui con i miei nonni e i miei zii ho detto ma perché non raccontare la bellezza di questa di questa valle descrivendo tutti i paesi fra cui Motta Motta Kamasta tutti i paesi a scendere fino a Naxos rievocando come si viveva tanti anni fa anzi secoli fa perché questo romanzo parte dal 1600 fino ai giorni nostri ed è la storia di una famiglia che man mano si va a evolvere nel tempo da poveri contadini poi con il sacrificio eccetera e nello stesso tempo cerco di approfittare per raccontare come si vendemmiavo una volta come si raccoglieva il frumento perché una volta si raccoglieva il frumento e tutto tutto quello che ci poteva essere questi poveri contadini che a un certo punto soffrivano soffrivano la fame fino ad arrivare al 1965 se non mi ricordo con la riforma agraria quando cambiò tutto quanto però dal 1600 ai giorni nostri la vita dei contadini di questa valle era veramente molto triste molto brutta avevano una cosa che ho sempre riconosciuto la dignità perché questi contadini questi poveri che non avevano neanche da mangiare si accontentavano veramente di poco però riuscivano a unirsi insieme e quindi racconto le feste quando ci si riuniva insieme e si partecipava per diventare unici nelle loro manifestazioni e dimenticare tutte le traversie che loro avevano ecco questo è un racconto un romanzo che io ho cercato di portare avanti nel miglior modo possibile con il cuore per descrivere questa famosa vita che si faceva una volta ora tutto è cambiato purtroppo sono persi tanti valori tante tradizioni però l'evoluzione è questa e quindi purtroppo dobbiamo rassegnarci grazie 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 ad Antonio Sozzi Alcantara è un ponte sul fiume Maria Papa consegna il premio a proposito dico il ponte sul fiume perché non molti lo sanno che alla foce dell'Alcantara dalle parte di Naxos esistono le rovine di un antico ponte romano sono rimasti ecco visto un po' dal disegno grazie bene passiamo alle menzioni d'onore Osenda Iva la morte di Claudia guardo Giuliana con a te non sono presenti e naturalmente il premio consistente in coppa e diploma c'è bene ok allora raccogliamo con un applauso la nostra Osenda che viene ecco proprio dal nord morte di Claudia Claudia è mia sorella che è mancata è morte di incidente stradale a sei anni la sua morte è stata è stata una tragedia per tutti per i miei genitori per mia mamma e poi per tutti noi perché mia mamma ha sofferto tutta la vita di depressione è nato un fratello con disabilità per cui è stata un'infanzia molto molto difficile molto provata e questo racconto è stata la prima volta in cui ho scritto della mia infanzia e anche per me c'è stato un prima e un dopo adesso riesco anche a dirlo senza piangere a parlare e a dire di questa infanzia così dura così difficile così provata che prima di questo racconto mi era difficile mi era difficile parlarne ad alta voce grazie grazie è passato abbastanza tempo per poter far pace dice così però alla fine ecco qualcosa si smuove dentro per andare avanti a volte ci vuole tempo ci vuole tempo e il sindaco di Castelmola consegna il premio a Dosenda IVA per il diario La morte di Claudia premio coppa e diploma allora anche se non ci sono menziono il nome perché l'hanno ricevuta questa menzione d'onora sono Guardo Giuliana Pujia Domenico Zanardi Rodolfo Coppola Luigi mentre ecco sono da lontani perché anche se ritira Maestrelli il premio a Mazzacco Chantal una mamma così premio consistente in una coppa e diploma ringrazio a nome della mia amica Chantal la giuria la signora Ada per aver valutato il libro della mia amica Chantal e la giuria infatti sarà Enzia Conte a consegnare il premio che porterà quel diudine a Chantal Mazzacco Rinaudo Michela siamo arrivati siamo arrivati ai finalisti con l'anello del desiderio che naturalmente è assente e ritirerà presso la sede dell'associazione Falbo e Falbo con il mio breve diario Spagnolo Rosalba accogliamo Spagnolo Rosalba più lontani siamo più siamo presenti questo è importante premio che consiste in un diploma l'intruso chi è questo intruso ecco io intanto ringrazio per il premio non solo ma anche per avermi dato l'opportunità di conoscere tante persone meravigliose e per avermi avvicinato a questa malattia mentale di cui effettivamente poco conosco perché io ho affrontato una malattia brutta mi sono ammalata solo di cancro e lo chiamo l'intruso proprio per la sua invadente presenza e l'ho conosciuto quando avevo 15 anni perché la mia mamma si è ammalata di questo e quando lei morì io ho promesso a me stessa che avrei fatto tutto quello che potevo per le persone che si fossero ammalate di questa malattia non sapendo che ci sarei capitata anche io per ben due volte comunque il mio motto è ce la possiamo fare e anche in questi giorni sono felicissima perché ho scoperto che posso che sono tornata a nuotare mentre prima non riuscivo a farlo e ho continuato a sguazzare nell'acqua come una bambina felice ecco vi ringrazio moltissimo e basta grazie grazie Rosalba dottore Motta consegna il premio a Rosalba a Spagnolo con l'augurio di tutti noi ecco di essere sempre combattiva perché alla fine chi la dura la vince io ho una specie di segreto di formula magica ecco prima mi ha aiutato la fede sicuramente poi la mia roccia che è mio marito e poi dedicarmi agli altri e io faccio parte di un gruppo di volontariato che assiste appunto le donne operate al seno e soprattutto anche la scrittura perché certi sentimenti sono troppo grandi per restare chiusi dentro e allora scrivere è terapeutico è catartico grazie grazie per aver svelato questo segreto che è importante anche per noi grazie mille proseguiamo con i finalisti Biancotto Daniela con solitudine Pedrazi Nadia le mie vacanze a Ravenna Bado Marcella Acerba Antonucci Giuseppina storie di vita Dario e Diego De Cicco con Dario e Diego Beninca Silvia Fuga da Kinshasa quindi io sto andando avanti perché chi è presente si avvicina credo non ci sia Venditti Anna Lisa impareremo il futuro di Anna Lisa Venditti Ferrara Serena con caro diario di Martino Salvatore diario di un poeta e Mimotti Mimotti Nazareno con un diario di cronaca io penso che ho letto tutti i finalisti credo che ci siamo se non sono stati presenti e non ci sono ritireranno presso questa sede e adesso è anche il momento dei ringraziamenti come si può finire una serata di questa dove abbiamo avuto interventi e presenze di grande figure che ci hanno dato l'opportunità di di grande riflessione no? perché ognuno ha fatto una propria denuncia ognuno si rimbocca le maniche per poter andare avanti ecco fregandosi magari magari fra virgolette ecco di quello che si dice no? perché sono i valori che uno possiede dentro e che manifesta attraverso gli scritti attraverso le parole attraverso l'arte attraverso il teatro perché quando si fa teatro è logico sì c'è sempre la regia ma c'è quella denuncia che deve essere fatta in modo discreto dove ognuno ecco dice a volte non c'è peggior sordo di quello che non vuole sentire perché le cose si comprendono e come e allora siccome questo premio quasi quasi sembra una fiabba e voi sapete abbiamo iniziato con le parole di Filippo e il suo diario e lui scrive proprio qualcosa che chiama fiabba che come conclusione conclude proprio con tutto quello forse che abbiamo dentro e che vogliamo portare dice proprio così grande grande Filippo perché lo dobbiamo ricordare che come ci ha detto la nostra amica con gioia e con allegria dall'atmosfera proviene un profumo indescrivibile le rose sbocciano di notte e il miele si forma nei nidi l'acqua scorre e si respira dolcemente qui c'è dell'incredibile è tutto diverso ma pare così familiare da essere sempre vissuto le albe sembrano tramonti mentre i tramonti sembrano albe ma dove siamo dove ci troviamo siamo nel mondo della fantasia in cui tutto è sconosciuto e tutto ci stupisce non perderla mai questa fantasia è la tua stessa vita è la luce dei tuoi pensieri ed il pensiero è un tesoro tienilo segreto amalo perché è tuo credo che cioè ciò che ci dice tuo figlio penso che non abbiamo non ci sono parole cioè ci spiega tutto quanto con grande dignità grande certezza e allora è il momento dei ringraziamenti siccome adesso Ada lo farà con tutti farà con la giuria permettetelo ecco di farlo io che ancora una volta mi ritrovo assieme a Ada in giornate che sono del tutto particolari e tanti hanno dovuto lasciare questo tavolo perché ci sono degli eventi familiari eccetera e io permettetemi che il ringraziamento lo faccio ecco alla mia famiglia ad una delle mie due figlie anche mio marito che sono qua perché anche oggi è il giorno del mio compleanno non ho non ho non ho pensato a Dare lì ma quando si trattava di una serata importante come questa ecco non ho pensato a NED ho pensato a Mammada e ai messaggi che si ricevano attraverso questi scritti ogni anno quando leggo e mi ritrovo lì a leggere questi diari quante cose della nostra vita comprendiamo sarà forse l'età che ci aiuta a fare scivolare tutta non farci arrabbiare a prendere tutto dentro e a capire che molte volte sono questi questi i problemi realmente da risolvere insieme qualsiasi sia la componente che noi rappresentiamo sono questi i veri problemi quante sciocchezze ci appaiono le cose che noi facciamo nei motivi futili per cui a volte ci si accapiglia si pensa quando invece nel vero rispetto rispetto dell'altro o soprattutto nella condivisione noi dobbiamo imparare a condividere sia le gioie sia i dolori se questo avviene significa che noi completiamo la nostra vita perché una vita non si completa non si può essere felici se non si percepisce il dolore quindi da il dolore dalle cadute ci si rialza sempre più rinvigoriti quindi con forza noi ci auguriamo che tutte le associazioni che lavorano per il bene comune per aiutare chi ci offre tanto e noi a volte non lo vediamo ci fa ci renda più uniti più uniti perché insieme le situazioni si prendono perché vedete siamo lì a combattere poi delle volte quando si arriva a raggiungere quasi i nostri obiettivi ci si dimentica da dove siamo partiti dice ormai li abbiamo ottenuti quindi è inutile lottare più per gli altri abbiamo ottenuto noi abbiamo lottato per noi e allora dico non abbiamo fatto niente combattiamo sempre non ci fermiamo e quando riceviamo un premio a tutti i premiati dico questo questo non è l'arrivo è l'inizio di altri percorsi che vi portano a salire questa vetta per andare sempre più in alto e con questo vi lascio proprio con una mia con quella mia lirica che l'augurio per tutti quanti dove io dico a tutti tutti coloro i quali siete qua quelli che non ci sono quelli che ci ascoltano bisogna volare in alto perché questo è se hai le ali non puoi restare a terra devi volare senza permettere ad alcuno di spezzartele la vita è bella sì ma non accontentarti lotta per migliorarla perché quel che possiedi è dono suo tesoro immenso e allora se raggiunger vuoi la meta tua abbi fiducia e vola in alto auguri buona vita a tutti e speriamo di poterci rivedere nella prossima edizione a te la parola sì ci sono delle consegne importanti intanto grazie a tutti i presenti vorrei abbracciarvi uno ad uno però non è ancora finita la serata per cui potrei ancora farlo abbiamo tempo grazie al signor ci sono ci sono dopo grazie signor sindaco per la sua presenza ci ha onorati veramente non ho parole grazie veramente grazie a tutti grazie agli assessori del nostro comune il nostro sindaco anche se è assente in questo momento alla nostra giuria infaticabile che lavora diciamo senza mai risparmiarsi tantissimo il nostro grande il nostro grande dottore il nostro giornalista Rosario Messina scusa poi Cristina Lorenzo Tanio Katia Lella grazie grazie a tutti i presenti veramente con tutta l'anima ma con il vostro permesso un grazie lo devo anche al mio Filippo lassù grazie Filippo questa è la tua lanterna lo dico a voce alta grazie ma in questo momento io ho dei pensierini da parte della gioelleria di Francavilla da consegnare alla nostra grande giuria permettetemelo un attimo solo ok allora al presidente Angelo Manitta ecco lei ha ringraziato tutti lo facciamo un applauso a mamma e ringraziamento va lei che porta avanti quello che i semi gettati da Filippo ecco stanno portando frutto e buon frutto buon frutto ad Enza Conti ad Agnese Calabro eccola a Maria Lilia Papa ah guarda ecco augurale grazie 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 no 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 assolutissimamente siamo tutti tutti necessari nessuno indispensabile ok grazie a tutti ricordo che chi volesse fermarsi per la pericena si rivolge a Cristina ci accomoderemo da quell'altra parte ecco è un momento conviviale da trascorrere tutti insieme e vorrei salutare e ringraziare anche il professore di Dio che magari è il professore di Dio che è lì che rappresenta magari il comune non so se dire tutte e due le due cittadine Castiglione di Sicilia e Rocella Valdemone e la Valle Alcantara perché lui da buon dirigente di musica professore di musica è un po' lì a girare tutte le zone grazie grazie per la presenza questa sera fra noi bene a dopo per chi rimane e un arrivederci a chi va via grazie a tutti